In diretta dal circuito di Zandvoort in Olanda ma esce alla l'undicesimo round della Master League stagione agonistica 2023-2024 Buonasera amici Formula Italian Team da parte di Raffaelelli Per voi Roshi questa sera ranghi ridotti ma attentissimi per un ennesimo incredibile GP con la Master Qui con me per mia e vostra fortuna il caro consueto Marco Luconi al ruolo di direttore di gara e voce aggiunta Ciao Raffaele buonasera a tutti buona Master stasera si doppio ruolo ci proviamo dai Molto bene allora cominciamo anche per la Master l'ultima insomma nel carnet di ciò che offre la Master League nel menù Con questa settimana in Olanda la penultima tappa europea per questa ovviamente stagione di Master League La quattordicesima annata con la categoria massima per quanto riguarda i nostri campionati Sempre sulla distanza di gara al 100% ovviamente senza nessun tipo di aiuti alla guida eccetera eccetera Nel mentre che Bigno va a far registrare la miglior prestazione saranno dei primi minuti di qualifica abbastanza calmi Poiché non sono previsti grossi temporali in gara in qualifica si è scatenata con i ragazzi della Prime e la Pro ieri Quindi sarà fondamentale risparmiare quanti più treni possibili di gomme Sarà un tema che andremo ad aprire più avanti Un piccolo recap se ve lo siete persi Un incredibile GP di Spa-Franco Champ in Belgio Visto l'intreccio soprattutto strategico segnato da una safety car che ha aperto il via essenzialmente a tre scelte Che poi sotto la bandiera a scacchi hanno separato i piloti di pochi decimi barra secondi Insomma sono tutti arrivati uno dietro l'altro a trenino come un classico ormai di queste Master League dal 2018 in avanti all'incirca Grande rimonta da parte di Shumi Legend Prima a transitare solo il traguardo Tuttavia nel corso della sua rimonta ha avuto un contatto con J-Sport Che lo ha poi portato ad essere penalizzato nel post-gara scendendo dalla prima alla nona posizione Insomma per farvi capire quanto erano vicini i piloti In questo modo via libera Sdem per la sua nona vittoria su Fit Quinta in Master League prima di quest'anno Davanti a Dilegge e Fabio il surname Bigno in quarta posizione Bravo Flaminio quinto chiude la top 5 Poi c'è C-Sport che ha portato la vettura al traguardo nonostante un pesante danno al fondo per quel contatto con Shumi Jovi in ottava, Shumi come già detto in nona e Drago che chiude la zona punti In una gara complicata fin dal primo giro Poiché ha avuto un contatto con Luca Bigno che lo ha mandato in testa coda E anche lì è finito nel gruppo e è stato complicato trovare il modo per risalire In una gara dove tutto sommato non è sembrato avere un ritmo così strabiliante rispetto a quanto invece aveva già dimostrato in passato Ma può starci che in quel contatto alle comb ha avuto un danno ai side pod alle punch Magari qualcosa di leggero che non gli ha permesso di risalire Ritiratemi che mai la wildcard purtroppo Davide Trane e Marco Gano dopo una spallata con Zeta Promauro Che anche lui ha riportato pesanti danni alla vettura Ho visto un Gano scendere in modalità Schumacher 98 Andando a cercare nel post gara Zeta Promauro Però il tutto si è risolto comunque nel post gara e via libera ancora una volta questa sera per la lotta Anche dalla grassiva rivediamo le vicine Zeta Promauro è il momento in dodicesima e il Gano in tredicesima Ovviamente tutti quanti senza tempo fatta l'eccezione per Luca Bigno e forse un altro pilota No tra pochissimo Matteo Teoteo Andiamo a dare uno sguardo in effetti alla lista dei piloti partenti Cioè Matteo Teoteo come vedete la grafica in sua impressione Matteo Cacciotti che ha davvero ben figurato tantissimo Ed era uno dei dubbi più grandi Almeno personalmente il perché non lo abbiamo visto come presenza Come pilota ufficiale Lui preferisce le gare al 50% Almeno da quanto ci aveva fatto per venire nella presentazione Non si è trovato il modo immagino a livello organizzativo Con i propri impegni di correre nella sport Ovviamente non in prime Poiché essenzialmente due gare di precision a corso Due pole, una vittoria e un terzo posto Come detto ero sempre stato molto curioso di vederlo in pista Già si è assentato più volte Mattia Metrano che è il pilota che Matteo Teoteo Matteo Teoteo Sostituisce E però non c'era mai stata l'occasione di far scendere Quindi il terzo pilota Red Bull con il numero 12 in pista E quindi vediamo Sono molto curioso di vedere cosa combinerà Assente anche Mike Maenaston Martin E lo sostituisce Come di consiglio il terzo pilota Lopeschi Che questa sera Se arriva alla bandiera a scacchi in tre giorni Arriva a completare 180 giri su questo tracciato E stiamo ancora festeggiando Insomma è un buon modo per festeggiare la sua settimana delle 200 gare E quindi gli auguriamo il meglio C'è di nuovo in pista anche la wildcard Davide Trane No andiamo No a parte non lo vedo Doveva essere presente Purtroppo si è stato l'assente dell'ultimo minuto Quindi diciamo purtroppo non ce l'abbiamo visto È un peccato Perché anche lui si è ben difeso diciamo in qualifica In questa master così È ravvicinata In gara pochi chilometri Un contatto in Ungaria A muro in Belgio Dopo poco Quindi gli auguriamo il meglio Che magari possa ottenere anche lui qualche gioia Nel corso di questa sua stagione come wildcard In master league A proposito chiudiamo così poi ci concentriamo sulla qualifica Gara numero 95 della master per Flaminio Lui a livello di gare è il pilota che ne ha corso di più A livello di statistiche Corso dalla Sport nel 2014 Quindi è abbondante oltre le 200 Però abbiamo ritrovato questo fattore Che è presto al Se non vado a rato forse o Cratar o Brasile Dovrebbe arrivare a quota 100 Poco meno di Poco più di 10 minuti al termine di questa sessione di qualificazione Andiamo a recuperare le grafiche curate Dal nostro buon Lopeschi Per mostrarvi i parziali che i piloti andranno A far registrare in questi Credo due run Che i piloti faranno Sarà interessante Non lo sapremo con totale certezza Ma sarà interessante vedere Anche chi Cercherà di fare lo stesso Fare due tentativi Sullo stesso treno di gomma morbida Come detto C'è forte incertezza su una strategia Poiché il meteo Questa sera non dovrebbe scombustolare i piani Le safety car potrebbero segnare Insomma una scelta strategica Che potrebbero portare i piloti Su due treni di gomma gialla Magari due Se qualcuno lo riesce a salvare Anche tre di gomma soft Ma la track position Qui è fondamentale L'abbiamo visto anche ieri in pro league Nonostante una differenza di due mescole Nonostante Visto che il pilota davanti aveva il DRS Non si riusciva a sorpassare Quindi Non immagino Che ci sarà chi vorrà far saltare il banco Con tre Quattro soft Utilizzando tutte e tre le gomme morbide Potrebbe essere un azzardo Ma soprattutto Penso qualche safety car L'abbiamo visto anche per Dei semplici detriti Con Fedecart Ieri in pro Entra Entra spesso in questo track È molto probabile Diciamo poi la pista Molto veloce Stretta Comunque con carreggiata Diciamo che si presta Ecco a incidenti O anche semplicemente Rottura dell'ala O detriti in pista Che possono causare Poi l'entrata della safety car Molto bene Buonasera comunque a tutta la chat A livello audio Fatemi sapere se è tutto in ordine Dovremmo esserci Speriamo per il meglio Vi mando in superimpressione Anche la grafica Visto che le abbiamo Le sfruttiamo Per quanto riguarda la classifica Ovviamente aggiornata Ai risultati Che ci ha regalato Insomma Nell'altro Il Gran Premio del Belgio Sempre Fabio Il Surneim Ovviamente Leader del campionato Una leadership Che non abbandona Dalla seconda gara Di questa stagione Jacopo Tutto sommato Sacrificare un po' La 3 La curva verso destra Per impostare bene Poi questo Corvone verso sinistra Con un forte banking Nella realtà Si fa una traiettoria Totalmente differente Da ciò che vedremo Fare da parte Dei piloti Stem No adesso sta risparmiando Quindi non possiamo Vedere con lui Si è migliorato Z pro Mauro Non male Va in terza posizione Bravo Mauro Con l'altra Alpine J Sport Amaramente In questa stagione Il pilota Che si È in corsa Per il titolo Ma che a livello Statistico In qualifica Ne sta combinando Una più di Bertoldo Tutto sommato Un mezzo disastro Non riesce mai a partire Nelle posizioni più onorevoli Dicevo di Fabio Comunque leader del campionato Fondamentale Questo ritiro di J Sport Una pista Che non si riesce a sorpassare Ha già fatto un tempo A 3 decimi dalla pole Ma nel finale La pista diventa velocissima E quindi Credo finirà Nelle ultime caselle Dicevo quindi di Fabio 143 punti Più 17 Su un Quieto Quanto pericoloso Di legge L'abbiamo sentito Molto calmo Pacato Nella post gara del Belgio Ma convinto ovviamente Delle sue potenzialità Quindi Attenzione Al buon Luigi Più 24 su J Sport Forse troppo rampante In questa Sessione Sessione Di qualificazione Come vedete Dragoli è evitato A 39 punti In questa master Io direi che fino a Forse è troppo ottimistico Il settimo posto di Bigno Poiché È una settantina di punti Dalla vetta Però Visto quanto sono vicini Quanto si può commettere Un errore E finire L'abbiamo visto con Shumi Magari un leggero contatto Di porta dalla prima Alla nona posizione 70 punti In sette gare Sono 10 punti a gara Se uno vuole Le vince tutte E Fabio fa sempre terzo Ma sono tanti interpreti Quindi magari Bigno è un po' ottimistico Però Diciamo dalla prima Fino alla sesta Settima posizione Possono ancora ritenersi Tutti protagonisti Per quello che sarà Il proseguo con Questa stagione Chiudiamo con uno sguardo Alle classifiche Per quanto riguarda Le costruttori Dove la Ferrari Ha 13 punti In mezzo Importante questo mezzo punto Da segnalare Nei confronti All'Alfa Romeo Che a sua volta Ha una lunghezza Sull'Alpine E mezzo punto Anche tra Haas E Mercedes Che chiude La top 5 Direi che possiamo Finalmente concentrarci In questi ultimi 5 minuti E poco più Se mi In questi ultimi 5 minuti E poco più Di qualifica A disposizione Da parte dei piloti Fa segnare Il parziale record Nel secondo settore Fit Flaminio Almeno da grafica Marchiata Codemaster Vediamo se Anche i tempi Del nostro Trager Live Timing Ce lo conferma Sì 23 500 14 22 Va per un ottimo Biazzamento Luca Flaminio Che si ferma A 93 millesimi A Drago Levitato Ovviamente Di stacchi Tutti tirati Abbondantemente Nel secondo Per la precisione 679 millesimi Dalla prima Alla dodicesima Posizione Dovrebbe essere Nel suo giro Anche Fabio Il Surnemi Che migliora Il parziale No Non è un migliorato Perché era 514 per Flaminio Nel T2 5-5-5 Per Fabio Nel T2 T3 Invece ottimo Per Fabio Il Surnemi Leggermente più rapido Riguardo Rispetto A Luca Flaminio Va in seconda posizione Si riprende tutto sommato La prima fila Che Flaminio Gli ha sottratto Per pochi secondi Vediamo se Giovi Va allora Per la sua Prestazione cronometrata 24-0-0-9 Nel T1 In linea Tutto sommato Con quanto stanno facendo Tutti gli altri piloti Ovviamente Se volete seguire Con più precisione Tutti i parziali I giri Le gomme Vanno a utilizzare i piloti E basta utilizzare Il Tracker Lifetiming Presente sul nostro sito www.formetalentime.com Sì Sicuramente J-Sport Con questo ritiro Scenderà ancora In basso In classifica Sulla grida di partenza Probabilmente Intorno alla Vedremo Insomma 12esima 13esima posizione Difficile Diciamo Immaginare Fare una previsione Però sicuramente Sarà difficilissimo Perché qua la qualifica È fondamentale Lo sappiamo E poi la gara Può andare Possono uscire safety car Possono esserci Dei ribaltamenti Ma è difficile Partendo dal fondo Anche se Insomma Abbiamo visto Nelle scorse gare Sempre qua In questo circuito In altre categorie Che rimontare È possibile Però ecco Diciamo Non essendoci Neanche la pioggia Una variabile Sicuramente Che poteva essere utile Sarà difficile Sicuramente Per il pilota Alpine Si prepara A lanciarsi Shumi Legend Percorre La penultima curva Veramente trappola Soprattutto La seconda Metà Del cordolo esterno Pericolosissimo Che la vettura Spancia Si aggancia Al fondo E trascina Verso Una vicinissima Barriera Bisognerà stare Particolamente Attenti In quel frangente Con il carico Del carburante La vettura Tanto pesante Fatica Un po' Di sottosterzo Nonostante si viaggia Con dei setup Estremamente carichi È un tratto Abbastanza Pericoloso Soprattutto Perché Come detto Si ha una vettura Davanti E si fa fatica Si va In salita Sinistra Destra Si alza Leggermente A metà curva Che si mette La sesta Per avere Più giri motore E avere Ancora più Slancio Di quest'ultima Curva Verso Destra Che caratterizzava Fino Poi Quando c'è stato Il restyling Del tracciato Sul fine Negli anni 40 Dalla prima Curva Fino Quella Credo Sia La settima Ottava Il layout È rimasto Uguale Ovviamente Ammodernato Per questioni Di sicurezza Lì in quel tratto Poi Noi giriamo A destra Quest'anno In passato Si tirava Dritto Si entrava Un po' Stile Lokenheimring In un bosco Velocissimo Altissime velocità Ovviamente Poi Come le tue Motive Di sicurezza Tagliato Quel tratto Penultima curva E poi Diciamo Parabolica Sopraelevata Per Shumi 91 Legend Che va sul Traguardo Non male Il suo tempo Momentaneo Sta togliendo Quasi due decimi Si avvicina Ma Non basta Per andare In prima fila Si ferma In seconda fila Appena dietro A Luca Flaminio 2 minuti e 7 C'è il tempo Ma dovrà Fare un giro Molto lento Per recuperare Quanto più hertz possibile Che qui si consuma Tantissimo Anche in gara Sarà un tema fondamentale Zeta Pro Maur Mannaggia 5 posizioni Lo stavo per dire L'ho appena pensato Bisogna stare attenti In questo circuito Soprattutto anche Al traffico E al giro di lancio Infatti Appena Stavo pensando E' successo subito Un fattaccio Quindi niente Bisogna stare molto attenti E' pericoloso E basta veramente poco Alzare un po' il piede Per lasciare sfilare Una vettura Che sta sopraggiungendo Hai una vettura Che ti sta seguendo Anche essa Nel giro di lancio E succede quello Che è successo A Zeta Pro Maura Che prenderà Queste 5 posizioni In griglia Come è successo Del resto Anche ieri A Pozzeduca Nel giro di lancio Tista in tredicesima posizione Almeno dal lifetime Che ci viene dato Il primo dei piloti Che potrà Che transiterà Sotto Non sotto la bandiera Scacchio Perché manca ancora un po' Invece arriva Prima Lopez Davanti a lui Un Alfa Romeo Che credo si stia lanciando Sul traguardo Il terzo pilota Della Aston Martin Per rimanere in quarta posizione Non un giro così invidiabile T1 Fucsia Per Drago Levitato Si accende subito Il monitor dei tempi Atteniamolo al T2 Toglie 3 millesimi Dalla sua precedente prestazione 23 890 Precisissimo Alla prima fotocellula Atteniamo l'aggiornamento Per il T2 Ovviamente va per migliorare La sua momentanea Ball position Perfetto Sfrutta tutti i millimetri Su quel cordo Nella penultima curva Non così a suo agio Nel T2 Accusa 21 millesimi Dalla suo tempo Ma si può migliorare Nel T3 Invece no Nonostante abbia sfruttato Benissimo Ogni metro concesso In quel frangente Alla penultima curva Scondola un po' Al posteriore di Fabio Il Sorneme Non aiuta Bisogna essere molto precisi Smooth lineari Qui nel T2 Si perdono centesimi Preziosissimi Zeta Promauro No è cartista Alla chicane No cartista Un po' più indietro Allora dovrebbe essere Luca Bigno No invece è l'Alpine Purtroppo con questo azzurro Non aiuta Zeta Promauro Non basta Giro annullato Allora torniamo su Fabio Il Sorneme che tenta di attaccare La pole di Drago Lievitato Anche lui sfrutta veramente Ogni nanomillimetro Per andare a sfruttare Ogni metro della pista Sulla bandiera Scacchi Fabio Il Sorneme Tremillesimi Si ferma alla pole position Vediamo se Flaminio Prova un colpo di lane C'è anche Sdem Arriva prima Sdem Simone Fracchiolla Fresco Polman Del Gran Brevo del Belgio Non ce la fa Quinta posizione A centottantadue millesimi Dalla pole Annullato il giro per Luca Flaminio C'è una Stone Martin Alla chicesco Che è stato uno Dei pochissimi piloti A fare solo un tentativo Potrebbe addirittura Essere la stessa gomma Con la quale ha abortito Il suo primo giro veloce Purtroppo un errore Un errore per Cesco Si è girato Purtroppo nel suo giro Quindi sì Tempo altissimo E J Sport Tutto sommato Decima posizione Poteva andare peggio Quindi tutto sommato Dai Accettabile Però l'errore Comunque Non è perdonabile Ecco per un pilota Che sta lottando Comunque per il campionato E sono errori Che si possono pagare Molto cari Poi a fine stagione Chiude senza voler forzare Cartista Il suo ultimo run Ha abortito Il suo tentativo Come detto Annullato il tempo Per diversi piloti Fabio il surname Mi ha essenzialmente Fatto rilasciare il cervello Nanometri Insomma Ho detto cose strane E Sfruttato davvero tutto Ci ha provato fino alla fine A Poter Togliere Questi ultimi Tre millesimi Che Sul cronometro Concedono La pole position A Drago Levitato 1.08.281 Un tempo Mi aspettavo In realtà Magari qualcuno Ci può stare Insomma i piloti Hanno cercato di salvare Qualche treno di gomma Quindi Non Anche la pressione Ovviamente Della lobby ufficiale Non aiuta Mi aspettavo Onestamente qualcuno Che riuscisse ad abbattere Il muro dell'1.8 Però Sono tempi ovviamente Di tutto rispetto Dalla prima Alla tredicesima posizione Almeno dei piloti Che hanno spinto In questa sessione di qualificazione Sono in 591 millesimi Lopez che un po' più ha tardato A un secondo e due E Cesco che ha chiuso un giro Più per Non partire in ultima posizione E Gano È rimasto sedicesimo Non ho fatto caso Se per Gano C'era un'eventuale penalità Per punto di licenza Non credo C'è una penalità C'è una penalità In gara Però insomma È come secondi di gara Ma non c'è una penalità In qualifica Quindi Sua scelta Di rimanere Di rimanere box Eh si Ha provato a salvare Quanti più treni possibili Di gomme morbide Che saranno fondamentali Per la gara Come vedete anche Dalla grafica In questo momento Che con lo split screen Leggermente nuvoloso Il tracciato Il cielo Sopra il tracciato Di Zandvoort E anche parziali Bello che Ogni Settore È stato fatto Registrata Da un pilota Il record 23874 Per Fabio Nel T1 514 Per Flaminio Nel T2 20824 Nel T3 Per Drago Lievitato Particolare anche Che da Il live timing Che ci viene dato Quattromillesimi Il distacco del tempo Tra Drago e Fabio 3 invece da Mamma Codemaster E classiche cose simpatiche Che ogni tanto accadono Sono spesso protagoniste Di ciò che vi andiamo a raccontare Rimaniamo in live Poiché il giro di formazione È particolarmente rapido In questo frangente Quindi ci prepariamo anche Con la grafia Per quanto riguarderà La griglia di partenza Magari se riusciamo Vi recupero un Luca Flaminio Che si prepara Per questo suo 95esimo GP In Master League Eccolo qui Buon Luca Concentrato Conciliabile Più per decidere In quale giro fermarsi E con quale gomma partire Poiché Io penso Che la maggior parte Diciamo Ci deve essere Un accordo generico Da parte di tutti Credo Viste le gomme salvate In molti faranno Gialla rossa rossa Però anche Gialla gialla rossa Ti evita Quella crisi E lo pneumatico Tutto sommato Su ogni gomma Almeno dalla strategia Che consigliava il gioco Si va sui 18 19 giri La rossa Dovrebbe tenere Senza grossi cali Finchè poi Sia il DRS Talmente importante La track position Che Sarà più Preoccupante Per gli altri piloti Chi fa Andercat Perché in questa pista È ovviamente potente Chiaramente Poi il fatto Delle safety car Delle possibili safety car Che potrebbero entrare E tenersi sempre Una rossa nuova O comunque Una gomma Con cui ecco Riuscire a fare La differenza In ripartenza È sempre importante Vi vado a recuperare Anche il Buon Sdem Che è anche Lui Live Su Twitch Andate Spammate in chat Dei saluti Non distraitelo troppo Però adesso Prima che si comincia Andate a salutare Anche da parte nostra Per Insomma Godere Anche di Una doppia visuale Per il momento Dobbiamo Avere più abbonati E sbloccare Altre cose Per avere Il Lo stream squad Quindi avere anche L'onboard Dei vari piloti Magari Proveremo Più avanti Arriveremo Arriveremo Eccolo qui Anche Sdem Lo vediamo Certo Il setup È ovviamente Bloccato Visto che Vice il regime Di parco chiuso Quindi Pochi gli interventi Spoiler Questo non lo facciamo vedere C'erano Le varie strategie Ecco Ho fatto un errore Non dovevo mostrarlo C'erano le varie strategie Da parte di Sdem C'è C'è timore Nessuno clicca Poiché ovviamente C'è timore Su cosa fare Sdem Abbiamo intravisto Un'art media Tutto sommato Anche l'art È una gomma Che tiene Ovviamente Le tante curve In sequenza Permettono alla gomma Di accendersi Nel prima possibile Restare in temperatura Non avere troppe difficoltà Credo ci siamo Comunque in attesa Degli utenti Credo vuol dire Di solito Stanno Stanno Quindi qualcuno Si è preso il rischio Di prendere Ecco Qualcuno si Proviamo a spirciare Anche Dal Dal lifetime No il lifetime Non si vorrebbe aggiornare Da In lontananza Ci sono le vetture Lì sulla destra Credo La maggior parte Puntino la hard Vediamo Eccoci Con le immagini Dalla pista Sembrerebbe Sembrerebbe Di si Ma quasi tutti Praticamente Soltanto Luca Bigno E Giovi Con gomma media Vedo un po' Di difficoltà In realtà A cominciare Questo giro Di formazione Le vetture Sono ancora Ferme lì Partito due volte Una Williams Lì dietro Dovrebbe essere Luca Bigno Che a livello Di connessione Anche a microfoni Spenti Insomma Lo abbiamo contattato Ma c'è stato Un po' Di Misunderstanding O proprio Mancanza Di comunicazione Comunque Sembrerebbe Partito Sì Ecco qua Partito con molta Calma Questo giro di formazione Un po' Troppa Infatti ho temuto Il peggio Ma sembrerebbe Comunque Tutto ok E allora Vi ripeto Ciò che riguarda Le gomme Mentre che ci prepariamo Ad avere La starting grid La grafica In pressione Per Nocciolare La grie di partenza Tutti quanti su Gommard Fatta eccezione Per Luca Bigno Con la Williams In ottava E Giovi Con la Haas In dodicesima Che differenze Ne vanno sulla gomma gialla Sedicesima posizione Per Marco Gano E dalla Chicesco Due che si sono Cercati di risparmiare Quanti più treni possibili Di gomme soft Lopeski In quattordicesima Z per Mauro In tredicesima Lopeski Che arriva Almeno punta A quota 180 Giri In tre giorni Su questa pista Giovi In dodicesima posizione E undicesima casella Per Manuel E decima posizione Per Cartista EJ Sport Autore di una qualifica Terribile Soltanto un giro Fatto registrare Da parte sua E poi un incidente Luca Bigno In ottava E l'esordiente Matteo Teoteo In settima posizione Terzo pilota Red Bull Sesta posizione Per colui che insegue In campionato Di legge 97 E quinta per Stem E Sì Quinta posizione Per Simone Fracchiola Perdonatemi Quarta posizione Per Schumi Legend Vuole rifarsi dal Belgio E Luca Flaminio Ottimo In terza casella Seconda posizione Per il leader del campionato Fabio Il Surneime E colui che ha più rimpianti Dal Belgio Colui che insomma In Ungheria In Austria Si era ben difeso Stava suonando la carica Poi come detto Belgio ha perso davvero Tanti punti Drago lievitato Alla sua ennesima Pole position In questa stagione Recupera anche la grafica Dovrebbe arrivare Al terzo giro Per quanto riguarda Le gomme In sovrimpressione Per insomma Risparmiare un pochino Di spazio E non avere Troppi impicci visivi Marchiati Cote Master Nel corso Di questo GP Zero di 72 Ovviamente sarà una gara Lunghissima Occhio alle safety car Il meteo non dovrebbe Creare troppi problemi Ai piloti E si viaggia Tra l'altro Verso il settimo Diverso vincitore Di un GP In questa stagione Di Master Ne abbiamo avuti sei Tre successi Per Fabio e Drago Uno per Shumigano JSTEM E abbiamo già Eguagliato Il raiorio del 22 Del 2016 E 2014 Penso che lo supereremo Questo Il record totale Di 8 del 2017 È una Master assurda A livello di nomi Potrebbe superare Quel record Sì Allora ci siamo Pronti per la Quarta edizione Il GP Prima di Olanda Della Master League Tra pochissimo Il via dei 72 Giri Oltre 306 Km da dover Percorrere Griglia di partenza Pronta Semafori Sì vanno ad accendere Tutto pronto Per il via Dell'undicesima Ronda E la quattordicesima Stagione Della Master League 2023 2024 Semafori Spenti Atteniamo il rilascio E la frizione A parte dei piloti Freddezza Reattività E andiamo Parte il Gran Premio D'Olanda Che è un drago lievitato E Fabio Il suo nome In prima fila E buono Scatto da parte di Fabio Che prova di infilare Il muso Della sua Alfa Romeo Decide di non forzare In realtà Alla staccata di cura 1 Va all'esterno Flaminio Attenzione Pochè si fa tanti metri in più Ma il banking aiuta Decide anche lui Di non forzare Dei confronti di Fabio Il suo nome Molto educati Nelle prime 10 posizioni Lì nel retrovio Visto un po' Se la deve ancora Perché Giovi Tira su un estreno A resistenza Qui all'esterno È molto complicato Decide di alzare il piede Una posizione guadagnata Non è un dramma Anzi È già un buon Un primo gradino Salito da parte di J Sport Ottima la casella Anche il movimento Anche da parte di Matteo Teo Teo Che si vede invece Attaccato da Giovi Che prova a forzare Giovi tra l'altro È uno dei piloti più avvantaggiati Poiché ha la gomma gialla Così come Luca Bigno Che invece è sprofondato In sedicesima Ed ultima posizione Credo a livello Di lag Che abbia avuto delle difficoltà Quindi con la gomma gialla Sarà solo Giovi Generare caos E qui dietro Zeta Promauro Un po' di difficoltà Nel tentativo No, perdona Era Cartista Che si vedeva attaccato Da Zeta Promauro Sembrava più un lungo Da parte di Mauro Che si è trovato Con il gruppo Ovviamente Che rallentava In quel frangente In una chicane strettissima Allora Primo giro chiuso Con Drago Levitato Poi Fabio Sordemio Flaminio Shumi e Stem A chiudere la top 5 Quattro posizioni Aveva parte di Giovi È il periodo che ha guadagnato Più posizioni 8 perse da Bigno E quello che non ha perso di più Come detto Per Giovi c'è questa gomma gialla Mentre per Bigno Delle difficoltà A livello di connessione Immagino Sì ti confermo Infatti È crashato Ora stiamo cercando Di capire Cos'è successo Però Grave lag Quindi Vediamo un attimo La situazione Vediamo se riuscirà A rientrare Ma veramente Con quel lag È veramente difficile Vedremo Come si snoccioleranno Soprattutto a livello strategico Non immagino In realtà Troppi brodi Che andranno a forzare Nella top 10 Soltanto giochi Come detto Con questa gomma Più morbida Rispetto A quanto fanno Fanno Stanno facendo E continuano a fare Per una Credo Ventina di giri Non vale la pena In realtà Tirarla troppo Questa gomma Certo dipende Dalla scelta strategica Come già detto Durante la sessione Qualificazione La track position In questo tracciato È fondamentale Bisognerà In effetti Capire Quali sono le intenzioni Dei vari piloti Se c'è Insomma La grafica di un'impressione Ce lo mostra Chiaramente Non è così fondamentale Andare sulla gomma rossa Il livello di tempi È molto Simile Però Ti chiama A dover fare Molti sorpassi Su una pista Dove essenzialmente Soltanto curva 1 E con molto coraggio Alla 8 Se sia Tanto di più Si è molto vicino Al pilota davanti Si può provare A forzare lì Un attacco Ma A meno Insomma Di una palese Differenza di pneumatico O di ritmo Che Quest'ultimo Non è sembrato Eserci vedendo La sessione di qualificazione Con 13 piloti In mezzo secondo Come detto Quindi soltanto Curva 1 Può essere Lo specchio O almeno la finestra Per un Possibile attacco Tutti quanti su gommardo Come già detto C'è Giovi In ottava E per il momento Rimaniamo su di lui Visto che Sembra essere il pilota Che Stava facendo Un po' da battesimo Del fuoco Per Matteo Teoteo Esordiente In questa master Scusami Raffaele Ma purtroppo Luca Non è riuscito A rientrare Perché la tech Ha lasciato E non è riuscito A prendere il controllo Della macchina Quindi siamo costretti A rifare La procedura Di partenza Perché chiaramente Non essendo In grado Di controllare La vettura Breve attimo Di pubblicità Credo 5-6 minuti Dai facciamo in fretta E torniamo Ci sono Negli anni Lo vediamo meglio Eccolo qua Fermati Aldo Fermati Su questa Costa comunque Più spesso Lo mettete Senza maglione Eccetera Vi veste Fa abbigliamento Praticamente fa Da cosa pesante Invernale La mettete Con il jeans Con il patrone Elegante Bene Ce n'è una Piene Aldo Segli Abbiamo la grigia Tinturita La vinaccia E quella Bianca Bene Quando mi sederete Direte No Bappo Non è possibile No Bappo E invece Si Respira Questa È chiaro Un prodotto Ambito Da tutti A volte Introvabile Ve lo consiglio Con cuore Con sudore E con gioia Di nuovo in diretta Per questo undicesimo round Con la Masterling 2023-2024 Gran premio D'Olanda Sul circuito Di Zandvoort Che ripartirà Da zero Per quanto riguarda Il counter Dei giri Dei 72 Previsti Da dover percorrere Non riparte Da zero Nelle strategie Perché ovviamente Ci ha salvato Più tre Impossibile Di gomma morbida Nella qualifica Un vantaggio Totalmente azzerato Poi che La ricreazione Della stanza Oltre all'arretramento In greia di partenza A parte di Luca Bigno Come da regolamento Concede A tutti quanti i piloti Credo lo stesso Treno di gomme morbide Non dovrebbero esserci Troppe differenze Credo Forse al massimo Soltanto la differenza Di un set Insomma Potrebbe Non cambiare nulla Quindi Rivedremo tutti i piloti Sulla gomma hard Così come potrebbe invece Magari cambiare Qualcosa in più A livello strategico Ho i miei dubbi Ho visto i piloti Almeno nella prima partenza Tutti abbastanza ordinati Consapevole Che non vale la pena Forzare Insomma La gara è infinita Come già detto 72 ciri Saranno molto lunghi Da dover affrontare Per i 16 piloti Partenti A questo Gran premio D'Olanda Avevo recuperato Il dato Della dodicesima Pole position In carriera Meno su Formula Italian Team Per quanto riguarda Drago Lievitato Non abbiamo Un polvere In più In questa Undicesima qualifica Stagionale Rimangono Quattro Ovvero Quattro Per Drago Lievitato Dopo le tre Conseguitevi Spagna In Gran Bretagna Austria Giunge l'Olanda Dopo un periodo di pausa Tre pole position Invece conquistata Fabio il surname Due invece da Di Legge In Bahrain ed Ungheria E Stem In Australia E la scorsa settimana In Belgio Ci risiamo Di nuovo Giro di formazione Andiamo a risnocciolare La griglia di partenza Forse con qualche fatica Ma dovrebbe riuscire a partire Anche in questo frangente Nonostante la ricreazione Della stanza L'ho pesca Programmato nel migliore dei modi L'applicazione Targata Formula Italian Team Con il tracker Live timing Per quanto riguarda le gomme Ve le vado a dire subito Tutti quanti No questo L'history Per errore mio Andiamo nel Live timing Su www.formuitalientteam.com Tutti quanti su Gommard Fatta eccezione per la gialla Vieno usata diversi piloti Con Fabio in seconda Flaminio in terza Matteo Teoteo in settima Tutti gli altri invece Gommard Sta già scorrendo In sovrimpressione La griglia di partenza Come detto Arretrato Luca Begno Cominciamo dalla fine Come di consueto Gano e Cesco In sedicesima E quindicesima Poi Lopez Chiebigno Zeta Pro Mauro Ciovi E Manuel Juve Ad aprire la top 10 Accanto a lui Scatterà Cartista Lucio Mando Il campione Della Pro League Della passata stagione Ottava sempre posizione Per J Sport Che in realtà ne guadagna una Con l'arretramento di Luca Begno Settima per Matteo Teoteo Poi Di Lecce In sesta E Stem In quinta casella Quarta posizione Per Schumi Legend Terza invece Per Luca Flaminio Sempre più in palla Quest'anno in Massa Reg E poi la prima fila Come già detto in precedenza Con Fabio Il Surname E il Drago Levitato Che prende La casacca Di primo inseguitore Almeno momentaneamente Di questo GP Nei confronto di Fabio Il Surname Nella classifica Generale Poi sicuramente Attenderemo la risalita Non facile In questo gruppo Da parte di Di Legge E J Sport Mark Ci sei? Tutto in ordine? Ci sono Eccomi qua Sembrerebbe di sì Non mi volevo Sbilanciare Ma ormai l'ho fatto Sembrerebbe Ok Qualche piccolo lag Lo vedo ancora Da parte di Luca Pigno Però se non altro È in stanza Sta controllando La vettura Quindi Non dovrebbero Eserci problemi Molto bene Allora tra pochissimo Di nuovo Il Via De 72 Giri Per un totale 306 km 648 metri Griglia di partenza Che si va a comporre Con i piloti Che portano le vetture Sulle proprie caselle Fabio In prima fila Accanto a lui Drago Lievitato Attendiamo che si va a posizionare Ganu In sedicesima Di nuovo Fredezza e reattività Poco prima dell'accensione Dei semafori Che stanno girando Il Via Dell'undicesimo Nella quattordicesima Stagione della Master League Fredezza e reattività Buato del pubblico Si accendono i semafori Con un'incredibile suspense Andiera verde Smentolata In fondo allo schieramento Ed anche davanti Ai piloti Davanti ai loro occhi Sembra che stiamo Per partire Almeno Per questo ultimo caricamento Qui siamo Parte il Gran Premio D'Olanda Categoria Master League Di nuovo Fabio E Drago Lievitato Che corrono Verso la curva 1 Molto più vicino Questa volta Drago Rispetto a Drago Lievitato Rispetto alla prima partenza Tutti essenzialmente Percorrono Affiancati la prima curva Con Flaminio Che di nuovo Questa volta più vigorosamente Si deve difendere Da Schumi Legend Che alla fine Deve mollare anche lui Il colpo Gomma gialla Per Fabio E Flaminio Che li porta subito Ad attaccare Si è dovuto difendere Per la verità Fabio Flaminio Attacco Vediamo Se c'è altro movimento Nelle retrovie Con J Sport Che guadagna già una casella Ne perde due invece di legge Non felice La sua partenza E Matteo Teoteo Dall'essere attaccato Nella prima partenza Adesso si trova a poter Attaccare con questa gomma gialla Rispetto ai piloti Che sono partiti Con la gomma più dura Portata dalla Pirelli Non c'è stata nessuna penalità Per Gano Non si era qualificato Era in ultima posizione È rimasto in ultima posizione L'unica penalità È andata a Luca Bigno Che come da regolamento Accordato Concordato Sottoposto A tutti quanti i piloti In ore e ore Di chiamate Riunioni Viene concordato Da parte di tutti i piloti Che si iscrivono Ai nostri campionati Ognuno consapevole Delle proprie scelte E quelle che saranno Le conseguenze Di determinati fattori Ti confermo che Luca Non ha avuto problemi particolari Se non che è partito In ritardo Probabilmente Si è spento il semaforo In ritardo Sono successi Piccoli problemi Ma ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti a partire Ecco E non è poco Molto Ma allora primo giro In conclusione Con Cesco È il pilota A guadagnare più caselle Due rispetto alla sua posizione Di partenza Tre posizioni invece Perse da parte di Luca Bigno Che come detto Con il semaforo Che si è spento in ritardo È rimasto piantato In greia Ci aiutiamo con La differenza Che va a segnare Il tempo tra pilota e pilota Con questa volta Ci dobbiamo concentrare Nelle primissime posizioni Visto la moda vista La modalità d'attacco Da parte di Fabio Zerone Ma Luca Framinio Con la gomma media Quindi un treno più morbido Rispetto alla hard De calzata dal leader Momentario di questo GP Drago Lievitato che Ovviamente Non avendo il DRS Non è sopra una questione Di gomma Non potrà difendersi troppo Anzi Può trovare un buon ritmo In Fabio Zerone Ieri in pro league Certo era una condizione Di pista mutevole Dopo diversi giri Inizialmente la hard Ha tenuto Nonostante Kaiser Matteo in prima posizione Con una gomma di vantaggio Rispetto a Lovasky Cercasse di allungare Forse anche magari Un silio Della batteria Da parte di Lovasky Per costruire la sua gara E restare lì Nonostante la gomma dura Gli ha permesso di tenere Il ritmo della gialla Quindi Anche se Fabio Magari riesce a Passare Di confronti di Drago Sono curioso di vedere Se Drago riesce A rimanere poi lì In zona di DRS E provare A tirarsi Non scivolare Troppo indietro Per carità Al massimo Perderebbe soltanto La posizione su Flaminio Perché Dopo Flaminio Ci sono tutti quanti Gli altri piloti Sulla gomma hard Shubi Slam Matteo con la gialla Anche lui Ma poi cominciano A essere troppi sorpassi Da fare in una pista Dove è davvero complicato Ci sono già diversi avvisi Al primo giro Un piccolo contatto Segnalato tra Flaminio E Shubi Legend Dovrebbe essere quello Che abbiamo intravisto A Corva 3 E due avvisi Per delle piccole collisioni Invece A Jovi 1.6 Addirittura due avvisi Per dei contatti Ma non ci viene segnalato Un altro pilota Che ha ricevuto questo avviso Quindi è difficile Di interpretare Quanto è accaduto Al pilota della Haas Che comunque Prosegue senza Nessun tipo di danno Così come tutti Gli altri 16 Piloti Che hanno preso La via a questo Gran Premio Dolanda Prima volta che si potrà Utilizzare il DRS Nemmeno lo va ad aprire Fabio il surname Rimane lì E si lascia trainare Davvero in pochi Molto saggio Molto esperti Tutti quanti Nel non voler Forzare in queste prime giri A non arrivare In cura 1 Con una velocità extra E poi Ci si trova Magari con i riferimenti Sballati Con una hard Non ancora perfettamente In temperatura Quindi ancora una volta Un grande livello Una grande saggezza E esperienza Da parte Essenzialmente Quasi tutti I piloti della Master Dove stanno Di sbavature grossolane Di contatti L'abbiamo visti Veramente pochi Se non Magari In qualche ripartenza Da safety car Nell'ultimo giro Come ad esempio In azerbaijan A Baku Che lì Diciamo E valso un po' tutto Poiché C'era l'occasione Del bottino grosso Per essenzialmente Tutti e 16 i piloti E Mi sono saltati Un po' gli schemi Negli ultimi due giri Ma insomma Lo si vede anche Nella Formula 1 reale In Australia Quell'ultima ripartenza Fu Una carneficina Seguiamo Con Fabio Il surname L'eventuale Attacco Alla parabolica Ok Si vicino A Drago Lievitato Da quest'anno La zona di DRS Viene anticipata Può far comune Effettivamente Aprirlo qui Perché si cerca Di stare Quanto più A destra possibile La pendenza Si sente abbastanza Quindi si prova Ad avere un po' più Di abbrivio Di velocità Poi Non va a chiudere Qualche metro prima Rispetto alla staccata Questa volta Fabio ha deciso Di magari provare A rimanere un po' più vicino A Drago Lievitato A mettergli Nella pressione Eventualmente Verso la staccata Di curva 1 Fargli anche Consumare Quel poco hertz Che però è difficilissimo Da recuperare In questo tracciato Visto che Di frenate Così vigorose C'è solo la chicane Nell'eventuale prima curva Ma poi Sono tanti tratti Soprattutto qui Guardate Quasi in pieno In gara Anche così Come abbiamo visto In qualifica Si alzava leggermente Si andava a parzializzare Per scalare una marcia Avere più girivotore Ed aiutarsi A avere più sprint Visto che la settima Vuore un po' Diciamo Verso curva 8 Invece la sesta Sebbene si va Al limitatore Nella realtà Credo Crei delle difficoltà Anche a delle vetture Così tecnologiche E qui Insomma nel gioco Si può fare Senza problemi Non c'è l'usura Delle Ecco questa sarebbe Una cosa interessante Per il futuro Ma Insomma il gioco Esplode già Se siamo in 16 E bigno Una leggera difficoltà Figuriamoci se anche Vanno ad implementare Nei campionati online L'usura delle componenti Che forse Ho il dubbio Se già c'è Se si va a creare la lega Ma insomma Niente È un tema Molto complicato Sesto giro Che si va ad aprire Sempre con Drago limitato Fabio Flaminio Shumi e Stem a chiudere La top 5 Leggermente più avanti Rispetto alla prima partenza Matteo Teoteo Che è in un bel trenino Essenzialmente Sono tutti a trenino Dalla prima Alla quindicesima posizione Tutti in zona Di DRS Si aiuta Diciamo Con questa gomma gialla Per stare più comodo Magari Soprattutto Una montata Per non essere forzato Come avevamo visto Nella prima partenza Da Giovi Che poi la gomma gialla Lo stava mettendo sotto pressione È ovviamente Più difficile È Giovi che ha sfiorato Ha sfiorato il muro All'uscita Dell'ultima curva Per mettersi Sul rettilineo Veramente sfiorato Il muro Infatti ero convinto Avesse riportato Un danno All'ala Invece Fortunatamente Soltanto Un effetto ottico Fortunatamente Perché comunque Un danno Del genere A quella velocità Può veramente Creare Seri problemi Ecco Eh sì Ieri Andiamo su Ne sono stato Primo protagonista Di un'ultima curva Decisamente folle Mi sono agganciato Con Patrick Con un'intermedia finita E Un bel bacio vigoroso Al muretto Gliel'ho dato All'ultimo giro E mezz'ala è volata via Siamo arrivati in tre In un decimo Essenzialmente In una volata Come detto Segnata da questo aggancio Che Ho trascinato Patrick Un po' più in basso E Sergente ha tentato Il colpo grosso Comunque Il muretto è ovviamente Molto tosto È una banalità Da dover Colpire in quel frangente Le velocità sono già Abbondantemente Oltre il 2,50 2,60 Non ho mai notato Precisamente Ma Credo siamo intorno A quel livello Si dovrebbe essere Al limitatore Con la sesta Si va in settima Alcuni tirano la settima Fino alla staccata Di curva 1 Altri invece Appoggiano un'ottava È un tema Questo importante Per il carburante Poiché Si viaggia essenzialmente Con il massimo Che Può permettere Insomma Il serbatoio Ciò che può imbarcare Abbiamo visto addirittura Più 7 E Nonostante ciò Ieri Poi nel post-gara Si diceva Nonostante i test Il carburante Al massimo C'era chi non era riuscito Ad arrivare Quindi veniva fuori Lo stile differente Dell'utilizzo Del cambio Di quest'anno Molti Preferiscono Cambiare sotto coppia Tirare un po' più Le marce Consente di avere Un piccolo Questione di centesimi Tra la quarta Quinta Sesta marcia Almeno sembra La vettura Avere Quelle giro Abbrivio In più Flaminio Che rischio Quel cordolo La seconda metà È una trappola La vettura Si aggancia E tira fuori E Flaminio Si ha preso un bel rischio In quel frangente Piccolo gap Intanto Che si sta aprendo Tra Manuel Juve E cartista E infatti subito switch Con cartista Che chiude l'ala Lascia strada A Giovi Che con questo sprint Dovrebbe magari Riuscire a tornare sotto Prendere questi ultimi Due decimi Ne confronti Manuel Juve È fondamentale Per loro Da Giovi a scendere Quindi Giovi Cartista Mauro Cesco Lopez Cheganu È un po' più attardato Rientrare nel secondo Per Perché il DRS Come avete visto È soltanto importante Nel rettilineo principale C'è una seconda zona Tra l'ultimo Curva verso sinistra Del T2 Dovrebbe essere Curva 12 E la chicane Strettissima Destra-sinistra Lì Le velocità Sono già Mediamente Elevate Insomma Si arriva Poi una staccata Dalla chicane Dove Da anche fastidio Avere quella velocità extra Arriva in questo tratto Con l'ala Che si va ad aprire In questo momento Da parte di Giovi Che ovviamente Apre l'ala Riesce a tornare Nel secondo Apre l'ala Per forzare Un po' Anticipare magari Qualche metro Quella staccata In discesa Non Così Rispecchiante Di quella che è La realtà Questa chicane C'è molta più Discesa e staccata E molto più A conca Il richiamo Verso sinistra Ma Già così è abbastanza Divertente Quest'anno In trazione Le vetture Tengono molto Magari Quel fattore A conca Potrebbe rendere La trazione Un po' Più divertente Per noi spettatori Per i piloti Invece Ovviamente Un dramma Cambio di posizione Anche tra Marco Cano E Lovski Che nel corso Di questo giro L'avevo vista Appena fuori dal secondo Rispetto al suo compagno Di scuderia Lachicesco Lovski Che da terzo pilota Lascia sfogare Marco Cano Speriamo che anche Biglio Riesca a rientrare Magari Nel DRS Di questa coppia Per provare Anchegli A ricostruire Il suo GP Decisamente Partito male Con questo problema Ai semafori Altra posizione Persa da parte Di Cartista Questa volta Vazia da Promauro Forse non si sta trovando Con questa gommatura Lucio Manno Diverso ormai Anche per lui Le stagioni Corse Sui nostri campionati Si hanno materato Una pausa Tra il 20 E poi rientrato Sul finire Della stagione 2021 Ma già In precedenza Aveva partecipato In Pro Lighe Con ottimi riscontri Ritorno Come detto Finire Della stagione 21 E poi la vittoria Del campionato Pro Lighe La categoria cadetta Al 100% Che corre al martedì Ovviamente Anch'essa Senza alcun tipo Di aiuto Alla guida E sulla distanza Massima Di gara Quindi al 100% La vittoria Per lui Nel finale Incredibile Rocambolesca Da Budapi Contro Valesi E Lopeschi Molto vicino Fabio Questa volta Siamo concentrati Andando a spaziare Nelle retrovie Con Fabio Che la staccata Di curva 1 Era arrivata A 165 millesimi Davvero sotto Rispetto a Drago Levitato Ovviamente Queste gomme Possono comodamente Tenere Una ventina di giri C'è da capire A livello strategico Cosa vogliono fare I vari piloti Perché Se hanno Ecco Non so Quando si ricrea La lobby Questa Non è mancanza Anche preoccupante In vista Di eventuali Ricreazioni Della stanza Per il mio Campionato E per la causa Alpine Buonasera Andrea Longagnani Buon doc Vi accompagno In scuderia In Alpine In Pro League Quante gomme Morbide Vengono concesse Ai piloti Se il bilanciato È solo Un treno Di gomme Morbide Oppure due Credo Vengano comportate Solo quattro gomme Poiché Si hanno Almeno Dalla qualifica Breva o completa Vengono sempre risparmiate Un treno di gomme Morbide E una dura E credo Quello ci sia Per tutti Sì Quello sì Poi penso Due gomme Extra Sì Penso due In più Tanto vedo Ancora Luca Purtroppo Laggare Infatti L'avevo comunicato Anche Purtroppo Al box Williams Non sta migliorando La situazione Anche per lui Ci ha comunicato Tramite Ingegnere Klikon Che Vede anche lui Abbastanza Movimenti strani Nella vettura davanti Ma in realtà Appunto È il suo problema E peccato Perché Infatti Poteva Poteva dire La sua appunto Come dice Klikon In chat Purtroppo Questa volta Ecco I problemi Sono Maggiori Rispetto Alle altre volte Un problema Abbastanza serio Purtroppo Non può Continuare Beh L'avevamo Sentito Con forte carica La scorsa settimana Delle interviste Post gara Del Gran Pino Del Belgio L'anno scorso Per lui Ovviamente L'anno scorso La sua stagione D'esordio Nel campionato Militava In sport La distanza di gara Al 50% Qui in Olanda Diciamo Una safety gara Un po' Fortuita Permisa Schuvi di rimanere davanti Altrimenti Si stava proiettando Ancora una volta Una lotta Incredibile Tra Luca Biglio E Schuvi 91 Legend Che quell'anno Si giocarono Battagliarono Per il titolo Della categoria Al 50% Che corre Tutto oggi Al lunedì Siamo a bordo Abbiamo percorso quasi Un giro con Luca Biglio Atteniamo allora Che arrivata in salita Alla parabolica A curva 4 Per chiudere un giro completo On board Con Luca Biglio Mentre che avviene Un altro switch Con Cartista Che perde un'altra posizione Prima Giovi Poi il Sardegna Adesso alla Ticesco Per un Lucio In difficoltà Di scondestino Ritiro Credo i box Per Luca Biglio Purtroppo sì Abbiamo comunicato Perché era Abbastanza pericoloso Sia per lui Che per le vetture vicine Un gran peccato Allora che Si perde Un effettivo Protagonista E ovviamente Per Luca C'è sempre La delusione Del preparare la gara In Una settimana Magari Il tempo di allenamento Per carità Ognuno Varia Insomma Da pilota a pilota Però Sicuramente La voglia di far bene Quella c'è sempre per tutti Anche se sia solo Un giro Per vedere dove si frena È un peccato Come detto Per Luca Anche perché veniva Da una striscia positiva Di 3-4 poti Quindi Stava davvero Ben integrando In questa Master League Abbiamo fatto un giro On board Con Fleming Ci spostiamo Allora anche Con Simone Fracchiola In arte Stem Fresco vincitore Del Gran Premio Del Belgio Leggermente In ritardo L'immagine Perché ovviamente Come detto in precedenza È anche lui In live Quindi il tempo Che il satellite Ci rimandi L'immagine Mentre che vanno In cura 1 In live Lui sta Percorrendo La parabolica Uno squardo La parabolica Indietro Per capire Dove è Matteo Teo Teo Dietro di lui Abbastanza rischioso Perché il moretto Si avvicina Pericolosamente Ma Sag Oddio Saggio Forse è un complimento Esagerato In quel frangente Almeno io non lo farei Ma io sono storico Diciamo Coraggioso Perché saggio Nel cercare di capire Quanto più Il prima possibile Nonostante Si è in curva Dove è la posizione Di Matteo Teo Teo Che così come Flaminio E Fabio Il surname È uno L'unico Nei tre piloti Ad essere partito Sulla gomma gialla Si C'è stata una sosta Di Marco Cano Che ha montato Gomma soft Nuova E questo è già Un mercato importante Credo che Molte risponderanno Per carità Era leggermente Staccato Insieme a Lopes Che da cartista Però Dalla decima Posizione in giù Credo qualcuno Potrà cominciare a muoversi Si E se scatta Gioviche In zona di DRS Con tutti Obbligatoriamente Porterà tutti Gli altri piloti A doversi fermare È leggermente In anticipo Però È una manovra Che obbliga Diversi piloti A pensare Crea una reazione A catena Che obbligherà Entrere un paio di giri A rientrare Oppure Continuare Sperando Qualcosa A che punto Diventa abbastanza Obbligatorio Rientrare Sì Come detto Avevano un po' di spazio Perché era Circa due Secondi e mezzo Barra tre Gano Insieme a Lopes Da cartista Quindi Un po' di margine Ancora c'è Penso Ancora due giri Se li possano permettere Di farli Senza Dover perdere Troppe posizioni Poi ecco Come detto Da Giovi a scendere Tant'è che Giovi Sta cominciando a prestare Da più vicino Nel confronto di Manuel Giovi Invoca un cambio Invoca un cambio di ritmo Da parte del pilota Mercedes Che è un po' più staccato Rispetto a Di legge Un dettore particolare Lì davanti di Matteo Teoteo Che è andato a sfruttare Tutto il cordone In uscita Gli altri invece Si sono tenuti Molto più sulla destra Per cercare di impostare Poi il richiamo Verso sinistra Di curva 10 Questa settimana Sono venuti fuori Un po' di differenze Nella scelta Delle sospensioni Ci sono diversi piloti Che hanno preferito Un posteriore più mormido Un anteriore rigidissimo Per aiutarsi In inserimento E altri invece Che hanno puntato Per un setup Molto da go-kart Molto più rigido Al posteriore Leggermente Più dolce Per assorbire Nel migliore dei modi Gli avvallamenti Soprattutto del T2 Del tracciato olandese Nel momento Non sembra volersi muovere Nessuno Gano è a 20 secondi E 5 Dal primo Di questi piloti Kartista Comunque Sono 2-3 giri Ovviamente Se andranno a pagare Poi su questa gomma Più morti 12.641 Il tempo da parte Di Marco Gano Vado a prendere Il distacco Dalla vetta 25.7 Dovrebbero essere 24 i secondi Richiesti Per effettuare Un pit stop Vediamo se qualcuno Si smuove Altrimenti Recuperiamo L'onboard Anche di un altro Pilota Quest'anno Insomma Con le varie Connessioni Che in mano In tutta Italia Si migliorano Possiamo sempre Avere più Visuali Differenti Da parte Dei vari Siamo Rispetto a mano E' profondissimo In curva 1 Incrocio Delle traiettorie Una manovra Sontuosa Da parte Di Giovi Nonostante La difesa Cattivissima Parte di mano Di Giovi Un grande Giovi Che incrocia Benissimo Rispetto al pilota Mercedes Si prende La nona posizione Molto bravo In questo frangente Giovi Dal VOD Se riesco E se c'è Un momento Di calma Lopes Intanto Ai box Sì Era in difficoltà Stavo vedendo Appunto Dal monitor Dei tempi Stava perdendo Diversi decimi Allora Deciso giustamente Di rientrare E infatti Il distacco Da Marco Gano E' già di 6 secondi Quindi Diciamo che Ora Vediamo cosa Faranno i piloti Davanti Sicuramente Marco Gano Beh A questo punto Rientrerebbe In quello Dovesse fermarsi Rientrerebbe Chiaramente Perlomeno Vicino ai piloti Davanti a lui Ma C'è ancora Un discreto gap Invece Davanti Sì Mi interessa Sicuramente Recuperando la manovra Di Di Giovi Volevo Giovi Non ha attivato I VOD Maledetto Io lo devo dire Per la prossima E che stavo vedendo Fabio Molto vicino Andrago Non so se Ci ha provato Attenzione Intanto Mauro Zeta Pro Mauro Su Manuel Juve Alla 3 Insieme Con Manuel Juve Che prova a resistere Sul cordolo Avrà il richiamo Interno Qui alla 4 Sfrutta il banking Zeta Pro Mauro Gran bella lotta Normale Lì che Con lo scondolamento Delle vetture Si vadano ad appoggiare L'uno contro l'altro Lunedì abbiamo visto Un contatto simile Tra Lessio Fiorino E Luni Con conseguenze Ben peggiori Bravi Entrambi i piloti A cercare E rispettarsi Il più A lungo possibile Lasciarsi Il giusto spazio Sebbene Insomma i limiti Di questa Master E anche Nella tracciato Molto stretto Bisogna forzare Diciamo un po' Sì È molto difficile Nell'appoggio Perché comunque È facile Andare un po' In sottosterzo E Dall'altra parte I piloti Danno Delle traiettorie Abbastanza Delineate Prefissate Non si può andare Molto oltre Quindi È sempre un rischio È da stare molto attenti A avere le giuste misure Per portare a termine Una manovra Del genere C'è lo che diventa Plumbeo Sul circuito Di Zandvoort Lombord Con Matteo Ci permette Di sbirciare Una situazione Davvero comoda Da parte Del pilota Red Buller Mentre Manuel Juve Perde un'altra posizione Questa volta Alla Chicesco Sempre in curva 1 All'interno Ecco perché Manuel Juve Sta perdendo tutte queste posizioni Comincia a lampeggiare Il led Posto sotto l'ala Posteriore Della sua Mercedes Segno che è sotto 10% Per quanto riguarda La parte ibrida Lers E si fatica E su questa pista È quasi Impossibile No Devi fare 3-4 giri Senza toccare La modalità Sorpasso Per risparmiare Hertz Poi sai Perdere un po' il ritmo Anche no Subire dei sorpassi Sicuramente non ti aiuta Nel tuo passo Nella concentrazione Anche quindi Subire un sorpasso Poi trovarsi Un'altra vettura Subito che segue Questo crea un po' di Diciamo Distrae un po' il pilota Che perde un po' il ritmo E inevitabilmente Poi viene Afferrato Diciamo Dalla vettura Che segue Eh sì Anche il morale Perdere una posizione Poi vedi la seconda La terza È difficile Tenere botta 18 di 72 Come da grafico In pressione Aperta la finestra Del pit stop Sarà problematico Per i team Che sono Esegualmente In realtà Sono tutti vicini Dalla prima Alla tredicesima Posizione Per nessuno C'è spazio Per fare una doppia sosta Quindi Immagino Uno dei piloti Si prenderà L'artuo compito Di allungare Un giro in più Rispetto al pilota Che invece Compagno di scuderia Si va a fermare In Red Bull È una scelta Puramente immagino Di classifica Visto che Matteo Teoteo Da Wildcard Questa sera Si sta ben figurando Ma c'è l'occasione Di far fare Un undercut A Flaminio Cercare di guadagnare La vetta del GP Così come In Alpine Credo Mauro non abbia Troppo da recriminare Sebbene sia così vicino Al suo compagno di scuderia J Sport In Ferrari Non ci sarà problemi Perché di legge Deve ancora fermarsi Mentre che Marco Cano De ha già fatto La sua sosta Sono un paio di giorni Che Matteo Teoteo Pressa davvero da vicino Nei confronti di Stem Nel T2 Come ho detto in precedenza Si viaggia Essenzialmente tutti Molto carichi Soprattutto all'anteriore Forse qualche colpo In meno d'ala Qualche grado in meno Da parte di Stem Per avere più velocità Sull'ala posteriore E il setup più carico Magari leggermente Per Matteo Teoteo Viene fuori O magari invece In questa fase Semplicemente Non sta forzando Le traiettorie In due lunghissimi Curvoni Prima verso destra E poi verso sinistra In particolar modo Quello destra Si arriva con tanta velocità E diciamo Dei bilanciamenti Alla frenata Decisamente Intorno al 53% Che qualcuno Ha tentato Nel corso della settimana Diventano più complicati Tante che si rieschia A bagare eventualmente In qualifica Poi in gara Non si va ad esagerare In questo modo Battaglia anche Tra Manu Juve e Kartista Con Kartista Che anche lui Ha provato a cercare Il Valken Con fronte di Manuel Che sta provando A recuperare Ma nulla di fatto Si difende bene Il pilota Mercedes Al momento Di solo Un millesimo fuori Dalla zona di DRS Rispetto a Cesco Però è posto Leggermente Leggermente no Molto più avanti Si bisogna stare attenti A questo I piloti lo sanno Perché Perdere poi Di DRS Può essere un problema Anche se siamo Ormai prossimi Più o meno Alla sosta Quindi insomma Tutto sommato Non è poi così grave Magari avere più spazio In realtà con la sosta Eviti di rimanere bloccato Perché Non abbiamo visti Diversi cambi di posizione In queste ultime gare Con i piloti così vicini Nelle varie categorie Può capitare Che il pilota rimanga bloccato Nella sua piazzola Non gli permetta Il gioco di uscire Nonostante il perfetto rilascio Della frizione Continuano per molto Molto lunghi Rispetto a quanto mi aspettassero E attenzione Ah no Stavo vedendo Cesco Anzi Z-Pro Mauro Sì con Giovi L'ho visto Molto Molto aggressivo Ero un board Con Cesco Ho visto appunto L'Alpine A casi Franco bollarsi Al posteriore Di Giovi In maniera molto Molto Preoccupante Diciamo In questo momento Dovrebbe star Cominciare a venire fuori La maggiore durata Dello pneumatico A banda bianca Rispetto alla gialla Con Teo Fabio E Flamio Che potrebbero Cominciare ad avere Un primo calo Che come per la penultima Intanto Rientra Rientra in pista Davanti Alla Petro Di Alla Stomartin Di Kopensky Sì Per pochi In Casalpin Chiamata Perfetta A proposito Vi chiamate Buonasera Ovviamente Anche Al buon Gallians Antonio Che sta facendo Da ingegnere In casa McLaren Caro Stem Buonasera Cristian Buonasera A tutti quanti Il buon Taz Che Nella precedente Lobby Mi aveva suggerito Che avevo lasciato Il bannerino Della Prime Chi ci seguirà Su Youtube Nel ricaricamento Della gara E domani Non lo noterà Perché la edito E quindi Mi salvo in corner Però Oh no L'ho detto Ops Quindi Andiamo in pista Dovrò tagliare tutto Torniamo in pista Perché potrebbe essere Un giro fondamentale Per il dipanamento Delle strategie Ovviamente Freccia a destra Per la maggior parte Dei piloti Con Drago Fabio Tutti quanti E box Attenzione Perché il pit limiter È stranamente Impostato Di 60 km orari Credo per Il poco spazio Che c'è in pit lane Così come da Silveston Era per il fatto Che apposta sotto La carreggiata Del tracciato Fabio Prende la posizione A Drago Levitato Che è rimasto Bloccato E poi Le altre posizioni Non credo Si siano Invertite troppo Se la telecamera Ci aiuta Vediamo J Sport Che esce davanti Anche Lopes Che esce davanti A Fabio Il surnevi Quindi Momentanea Prima posizione Per J Sport E seconda Per Lorenzo Damori Un undercut Potentissimo Per ciò che passa Dalla sesta Alla virtuale Prima posizione Eh si E con la vettura Di Lopensky Davanti a Fabio Che è un fattore Molto importante E potrà Sicuramente Permettere Di allungare Un po' Considerato Che la vettura Di Marco Davanti a lui Ha un distacco Comunque Da lui Di 3 secondi E 8 Quindi insomma Può permettergli Di allungare Leggermente Anche se Credo che Fabio Pionberà Addosso A Lopensky Molto Velocemente Dovrebbe aver Perto la posizione Rispetto a Di legge Anche Stem E insomma Qualcosa Anche in ingresso Uscita pitlane È stato perso Da parte Dei piloti Andando qui Matteo Teoteo Vicinissimo All'ambire Il muro All'ultima curva Si ferma anche Flaminio Giovi E Cartista Vediamo come Si e come Si muove Fabio No è troppo lontano Su Lopensky E allora Se Lopensky Riesce a rimanere lì Con questo ritmo C'è Sport è già scappato Per carità La differenza di gomma E di passo Verrà fuori No decide di non forzare A spento l'herz Lopensky Lascia strada Sportivamente A Fabio Il sordine Drago Levitato Che in curva 1 Vanno all'interno E chiudono la manovra Senza troppe difficoltà Molto saggio E corretto Lopensky C'è direttore Direttore Che rischio Con Flaminio Che si trovava In uscita dalla pitlane Ovviamente La gomma Fredda Per i piloti Che si sono fermati Sarà un tema Fondamentale In questi primissimi giri Manca la sosta Di Matteo Teoteo Cesco Manuel Juve Marco Ganno No Marco Ganno Si è già fermato A 2-3 Vantaggio su J-Sport Ma Aveva già effettuato La sua sosta Una decina di giri fa Vedo tutti con la rossa Tranne la McLaren Di Stem Questo è un tema Importante Poiché Non è solo Stem Sono andati sulla rossa J-Sport Di Lecce Flaminio Tutti gli altri Invece sulla gialla Quindi Fabio E Drago Levitato Sono su gomma media Il secondo treno Di gomma media Portato Nonostante la ricreazione Della stanza Da parte della Pirelli Quindi almeno Due gomme gialle Vengono portate Un bene Secondo me La Red Bull Però hanno fatto A mio avviso Un errore Perché Hanno posticipato Di un giro Ma questo farà perdere Tantissimo A Matteo Sì Matteo Penso non si poteva fermare Prima nel giro precedente Rispetto a Flaminio Visto che È ora andata Gialla Intanto Flaminio Su Lopensky Ci prova Vediamo Qui è difficilissimo Vediamo se l'alza il piede Infatti Plota Aston Sì ovviamente Terremoto in classifica Con le varie strategie Più che strategie Momento del giro Decidere Nel quale effettuare La sosta Che va A creare diversi Spaccatori In Greglia Slam qui Si trova Lopensky Nel guidato Quindi poco da fare Ci sono grossi varchi Forse qui alla staccata Se Slam lancia il 4-3 L'ostacolo Sicuramente Lopensky Non avrebbe chiuso la porta Ma nulla da fare Si trova Deve superare Marco Cano Sta perdendo Fabio sta recuperando È ormai prossimo A due secondi Ma Potrebbe anche diminuire Di stacco Infatti Un secondo è 8 Un secondo è 7 Sta crollando Di stacco Ma G-Sport supererà Sicuramente Marco Cano Adesso Si ricompatta Il gruppo Invece Dietro Lopesky Che ha creato Qualche difficoltà Di troppo Lì nella Chicane Stem Tutto Insomma Di spazio Non ce n'era Va G-Sport Rispetto a Marco Cano Arriva la sosta Anche per gli ultimi Due piloti Che mancavano All'appello Con Cesco E Manuel Juve Quindi Dopo il waltzer De p-stop G-Sport In prima posizione Marco Cano In seconda Entrambi con gomma rossa Quattro giri Già percorsi A parte di G-Sport Già 13 Invece Quelli Segnati Sulla rossa Di Marco Cano Che Dovesse riuscire A tenere il DRS Di G-Sport Questa gomma Dovrebbe essere Ancora viva Per una decina Di giri Dovrebbe Averne Sufficienza Se riesce a tenere Questo primo strappo Che sta sicuramente Tentando di dare G-Sport Potrebbe Restare in zona Di DRS E tirar fuori Qualcosa di Più positivo Per il suo GP Rispetto a Quasi ultima Posizione Nella quale Abilitava Prima della Suo Vigoroso Potente Amplio undercut Lì dietro Molto vicino Schumi All'Opeschi Che ha creato Un po' di caos Sì Non intanto Non tanto Semplice E riesce comunque A passare alla 11 Sì Eccolo qua Perfetto Precisa Allora la manovra Anche da parte Di Matteo Lacerenza Che va in Undicesima posizione All'Opeschi Con già 10 giri Di gomma soft Poco da fare Per lui vale Lo stesso discorso Fatto per Gano Se riesce Magari a trovare Un traino Può Mitigare Questa Sofferenza Di usura Dello pneumatico Molto vicino Drago Rispetto a Fabio Che si vede Tarpato In questo momento Da un Marco Cano Che non è riuscito Ovviamente A tenere lo strappo Della gomma rossa Nuova E questo Farà perdere Non poco Attenzione Tanto qua Drago Spingendo Fabio Che ci prova Qua Ma è difficilissimo È pericoloso Non deve prendersi Troppi rischi Anche se E i due sport Sta riguadagnando Quello che ha perso Prima Con Marco Già due Secondi e due È importante Così come Luigi Per riaccodarsi A questi piloti All'interno Drago Che cerca di approfittare Il momento Salta sul cordolo Arriva un piccolo Contatto con Fabio Lì purtroppo Appena salti sul cordolo C'è troppo Sottosterso La vettura Le ruote anteriori Qua si vanno a saltare Infortunatamente Non sembrano Eserci stati Dandi Per i due piloti È più un momento Di panico Che altri È stato Un leggero contatto Anche Con la Ferrari Di legge Che ha toccato Il posteriore Della Mercedes Ma Miracolosamente Non ci sono stati danni Si fa da parte Marco Cano Arriva al sorpasso Da parte di Fabio Il surname Arriva subito Drago Lievitato Che ha aperto Tutti i maletti Di Dell'Herz Per andare subito Sotto Rispetto a Fabio Il surname E chiudere anche Una manovra di sorpasso Va anche di legge Su Marco Cano E Flaminio Si vederà Tarpato In questo momento Dal compagno Di mille battaglie Qui poco da fare A meno di una Vigorosa C'è la mente Tentasse di andare all'esterno Con mezza vettura Sull'erba Immaginavo Tentasse di andare lì Che capolavoro Se riesce a chiudere Questo sorpasso Luca Flaminio Ok la differenza È pneumatico Ok Marco Cano Molto sportivo Ma con mezza vettura In impostazione Lì c'è uno scollino E quasi non vedi Il punto di corta Per carina Non si frena Quindi Non c'è il pericolo Di perderla in frenata Si alza leggermente Ma Una manovra bellissima Funambolica Da parte di Flamin Si Si Chiaramente Marco Cano Ha cercato Per quanto Per quanto difficoltà Con Anche con le gomme Rispetto agli altri Come Giri Percorsi Poi chiaramente Ha Favorito un po' Diciamo Il proprio compagno Che ha Diciamo Comunque Agevolato Appunto di legge E adesso Attenzione Di Zapromauro Che Procede Dietro ci sarà Una Una serie di piloti Che Ci proveranno Tutti insieme Curva 1 Vedo Tutti Tutti Vado io Vado io Anche Giovi Anche Matteo E ovviamente Purtroppo Marco Cano Si vede assalitato Un leggero contatto Con Giove C'è stato Ma Non è successo niente Schumi Rimane dietro Però Marco Ecco Prudentemente Non prende rischi E Si fa sfilare Quindi dietro In questo gruppetto Può Tenere il DRS E fare Essenzialmente Tra Anche meno Di 10 ciri Ciò che ha fatto In precedenza Cioè Enesimo Undercut E quindi Tornare in futuro Ad essere lo spauracchio Un po' di tutta la compagnia In tutto ciò Fabio non è riuscito A Diciamo A recuperare Su Su J-Sport Più o meno Siamo sempre Sul due secondi E mezzo E Si porta dietro Anche Drago Di legge Appunto Flaminio Tanto dalla chat Cominciano ad arrivare Memili Con Lopes Lopes Ovunque Quindi immagino Un Bugs Lightyear In modalità Tucumic Che segnala La presenza Di Lorenzo Damori Che sportivamente Il giro precedente L'abbiamo visto In classifica Perdere tre posizioni Prima della chicane Abbia lasciato strada Cartista Emanuele Dall'Achicesco Per non Forzare Visto che ormai Si trovava nelle posizioni Di rincalzo Per lui Questo undercut Non ha funzionato Così come fatto Da Marco Gano Magari non si è Lo dice spesso Lorenzo Che effettivamente Non si trova poi con La gomma più morbida Da dover utilizzare Ieri oggettivamente È andato molto meglio Con la gomma più dura Portata dalla Pirelli Vedremo come si muoverà J-Sport Poiché ottavo giro Già su questa gomma morbida Può tenerne comodamente 16 Ma Diciamo Lui è il pilota Che se decide di fare Ovviamente sempre Con il fatto che Non so quante gomme Hanno a disposizione Se ci sono due treni Di gomme morbide Siamo al trentesimo Potrebbe permettersi Di farne Altri Però è un peccato Farne solo 3-4 Fare due stinte Di gomma rossa È un peccato Perché vai a sacrificare Questa gomma Dove è ancora Brivio E possibilità Magari di aprire Il gap Anche mezzo secondo Importante su questa pista Su Fabio E Dragoli Evitato Credo sia il momento In realtà di aspettare Che si apra una finestra Lì dietro Ma è Complicato Una sosta adesso Finisce ultima Ovviamente Quindi credo Aspetterà l'eventuale sosta Diganu e Lopeski Per cercare di stare davanti A questi piloti Che hanno già fatto Undercut E quindi continueranno A fare Undercut Su tutti E tanto dietro Emanuele Juve Su Cartista Cartista che ha Leggero danno Al fondo E Non so Se è stato fatto Se è stato un danno precedente Probabilmente di qualche giro fa Comunque È un po' in difficoltà Ora Il pilota Williams E Intanto Marco Ghanu Sembrerebbe Ecco Appena uscito In realtà No Appena uscito adesso Dalla zona di RS Non Anche Sì Perché non Ah È stato sorpassato Anche da Cesco Sta facendo un po' Effettivamente fatica 18 giri Vediamo appunto Quando Quando rientrerà Però Molta fatica Anche Manuel Lo sta recuperando Marco Questa sera Abbiamo un pubblico Malvagio Cattivissimo Nessuno riscatta Al bevete L'ho riscatto io Allora per Allungare sia a te Che a me stesso Un goccio d'acqua Benissimo Purtroppo sì Perdo punti In vista della desecretazione Fit Ma credo Credo su F1 2048 Ci arriviamo Lontano Intanto Marco Ganno L'abbiamo chiamato E infatti È entrato Ad S-Box E quindi 18 giri Cambia Le sue pneumatici Nuovamente Gomma 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 Soft Con 40 giri Si può fare Altri due Stint Da gomma Armo Orbida E quindi Credo che a questo punto Se si regra la lobby I piloti hanno tutte le gomme A disposizione Ne hanno quante ne vogliono Quasi Credo 7 treni dovrebbero essere Sbloccati Se non vado Errato Dovrebbe essere Il massimo Avranno 3 rosse 2 gialle 2 hard Dovrebbero Sto vedendo Un Z Pro Mauro Forse un po' In difficoltà Sta aumentando Il gap Da Flaminio E infatti Vedo dietro i piloti Scalpitare Perché Ok va bene Il trenino Però Insomma Se iniziano a perdere Troppo tempo Da Da piloti davanti Vedo un po' In difficoltà Z Pro Mauro Forse è la mia Impressione Ma Ora vediamo anche Un po' I tempi Magari Nella tornata precedente C'era stato un po' Di difficoltà Per Giovi Toccato al posteriore Da Matteo Teoteo Nel guidato Lì quando eravamo Verso curva 10 E può starci Switch Intanto tra Dragoli evitato E Fabio Con Fabio Che si fa da parte Probabilmente uno switch Fabio ha visto Ha dato un tirone Di hersen Mentre che lotta Tra Schumi E Matteo Teoteo Non oppone Resistenza a Matteo E credo Urca Invece Il rischio di aggancio Tra le due asse Che pericolo Si è rischiato Il danno E vediamo Se c'è stato Però Perché Forse sono riusciti A evitare Fortunatamente La collisione E l'aggancio Soprattutto Molto pericoloso È quello Lala È sempre vicina Non abbiamo forature Sul gioco Ma invece Ormai Dal 2017 Ci portiamo A ganci Tra virgolette Fantasma Con le hitbox E la vettura Al posteriore Sempre un po' Più amplie Rispetto a quello Che vede il pilota Quindi è andata bene Tutto sommato Perché Lì le barriere Sono vicine Ne abbiamo visti Tanti di incidenti Con le vetture Che si agganciano E si trascinano Sul muretto di destra Momento da parte Di Gunther Steiner Attivi di panico Drago sta Sta ricuscendo Sta ricuscendo Sta facendo Un bel tirone Vedo Fabio Già sei decimi Quasi Eh credo abbia tirato Nel giro precedente Fabio Lers Nella T1 Dove si consuma Di più essenzialmente Visto che si fa Quasi tutto in pieno Poi ha dato Il DRS a Drago Che in questo giro Invece ha tirato lui E sono in questo modo Riusciti a rientrare Nel secondo Rispetto a J-Sport Quindi grande Profonda e astuta Collaborazione Tra Drago Limitato Fabio Il Surneve Sempre lì guardingo In attesa di legge Anche Flaminio Sempre preciso Sulle linee Ha dovuto sbottonarsi Solo con quel bellissimo Torpasso Su Marco Gano E continua Ad aprirsi Come avevi ben detto Il gap Invece tra Flaminio Zeta Pro Mauro Che è il primo Di piloti Di questo secondo gruppetto Due gruppi ciclistici Mi aspetto qualcuno Qua dietro A Z-Pro Mauro Che proverà Un attacco Comunque Chi pensa Ad averne di più Magari Ecco Potrebbe essere Potrebbe essere Lo stesso Sdem Potrebbe essere Lo stesso Sdem Vediamo Sicuramente qualcosa Succederà Ecco Secondo me Sta Si sta accadendo Una situazione Problematica Beh si Ho un tentativo Di attacco E In precedenza Abbiamo visto i piloti Fare all'incirca Tra i 6 e gli 8 giri Insomma Con le varie soste In Fare la sosta Dopo 6 e 8 giri Rispetto a Marco Gano Marco si è fermato Adesso dopo 2 giri Mentre Switch In vetta Abbiamo un nuovo leader Del Gran Premio Alla 35 secondi Staccata in curva 1 Per Draghi Levitato Che va al sorpasso Di J-Sport Sorpasso comodo Visto che il pilota Dalpin Complici anche L'usorello pneumatico Sta cominciando a faticare Ma era l'unico Dei piloti Di questo Primo trenino Senza DRS Si Diciamo Ma Di legge E Flaminio Comunque Ora si Riescono a tenere Comunque Il trenino Vediamo un po' Se J-Sport Avrà un po' Di difficoltà Magari Con questa Ha un giro in più Rispetto a Di legge Ma Potrebbe essere Un po' più in difficoltà Oppure potrebbe essere Che semplicemente Ha deciso di Recuperare un po' Di J-S Dietro a Drago Insomma Decidere di andare insieme Avanti un po' Fino a quando Non entrerà in box Sostanzialmente Comincia a mancare Un po' I punti di corda Nel T2 Rapidissima curva 7 verso destra Per Zeta Promauro E quindi Tutti quanti si avvicinano Tutti i scalpi Da molti si fanno vedere In frenata Tanto sotto Sterzo Qui per Stem L'abbiamo visto Dall'ala posteriore Di Zeta Promauro Non riuscite davvero A far girare La sua vettura Ora ci può Per Stem Adesso Siccome Giovi Si fa vedere Stem decide di Forzare il sorpasso Sul Zeta Promauro Che tira la staccata Dall'esterno Non ci sta Stem con mezzo Vettura su un cordolo Terrificante Da dover prendere Riesce a gestire bene A non dare Troppo angolo di sterzo E a scendere Senza troppe difficoltà Si difende bene Il Zeta Promauro Lasciando il minimo Dello spazio Ma ci sta Però Sono attacchi Che Fanno perdere Qualche decimo E Diciamo Per penso A questo punto Giovi stesso Proverà l'attacco Su Stem Se Dovesse riuscire Però Certamente Bisognerà aspettare Il rettilineo Perché comunque Con il DRS Si potrebbero anche Aprire il ventaglio Nel rettilineo Vediamo Cosa succederà Si tant'è che Stem si trova Ad attaccare Zeta Promauro Per difendersi Invece A sua volta Da Giovi Quindi E' chiaro E' questa Poi la dinamica Comunque 3 secondi e 3 Non è che Si è appeggiorata Molto la situazione Più o meno Si rimane su 3 secondi Da 3-4 giri A questa parte Avranno perso 3 decimi Da Fleming Credo i primi L'abbiamo alzato leggermente Perché hanno tirato Molto l'herz Per riprendere Jay E quindi Adesso Staranno risparmiando Qualcosa Va Stem Vediamo se si muove Anche Giovi Se cerca un barco Ruotata Da parte di Stem Cerca la traiettoria Ideale di impostazione Prova a ritagliarsi Uno spazio all'interno Anche Giovi Con Zeta Promauro Che traziona Su un cordolo Ancora una volta Molto pericoloso All'esterno Della 3 Sbatte la porta In faccia Zeta Promauro A Giovi Che è costretto A rimanere dietro Sempre Gagliardo E ben Preciso Molto aggressivo Mauro Perazzo Ma ancora una volta Efficace Sì è una curva Quella lì Molto Molto difficile Abbiamo visto ieri Un contatto Tra Tra An esempio In Pro Tra Fedecarte Overboost E è un problema Perché chi è all'esterno Tende a chiudere E non Andare troppo largo Per non perdere Appunto la corda E chi è all'interno Chiaramente Con un sottosterzo Non riesce a chiudere E stare molto stretto Anche perché poi È difficile Poi trazionare bene Quindi È facile Se non si lascia sfilare Il pilota vicino Arrivare al contatto Sì Chi all'esterno chiude Chi all'interno decide In quanti usceranno Vivi da quella corda Però Bravi piloti A rispettarsi ancora una volta Ci chiedono un sondaggio Dalla chat Essenzialmente Elogiano la tua grandissima telecronaca Ma anche Ci chiede Il Mungallian Se chi deve prendere Al fantacalcio Visto che Insomma La sosta è ancora Da rimandare Se c'è questo consiglio Per gli acquisti Nei calci Non saprei Non seguo Il campionato italiano Lo seguo pochissimo Seguo altri campionati Quindi Mi dispiace Alessandro Posso consigliare qualcuno In Bundesliga Non credo che Interesse a qualcuno Quindi Andiamo avanti Grazie Andrea Per i complimenti Però Insomma Dai Io sono fermo A Zanetti All'Inter Quindi credo Non sono Assolutamente A giocatore di qualità C'è ancora Cioè In teoria C'è ma Sì ha tolto gli scarpini Sarà contento Andrea Se ti parli di Zanetti Dell'Inter Lo rendi molto fiero Molto bene Torniamo in pista Dopo gli attimi di Gaudio Concessi dalla chat Tukumic Ok La risposta da parte di Kaiser Il buon Matteo Gerace I Memini Da parte di Tukumic Sì Attenzione Quando guidate Soprattutto se siete a Bologna Che con calma Lopes Che fa in tempo Di entrare in macchina E ve lo ritrovate Dietro di voi Torniamo in pista Con Dragon Evitato Sempre leader Del Gran Premo d'Olanda Da 5 giri All'incirca Riuscito a prendersi La leadership Del GP La grafica in sua impressione Ci mostra l'usura Che viaggia verso il 40% Per l'anteriore sinistra Di Jakub Rokita Chiamato Probabilmente a fare undercut Rispetto a tutti gli altri Con questa gomma soft Andando al quarantesimo E 32 giri Poi per l'ultimo treno Di gomma soft Sono tanti Però per una gialla Che comunque È più rapida In quel giro Rispetto alla gialla usurata Potrebbe essere Una possibilità per Jay Visto che Insomma L'abbiamo visto Ormai nel corso della settimana Non c'è questa palese differenza Cronometrica Dello pneumatico Se non Il cliff Più o meno Ritardato Dell'usura Dello pneumatico Intanto Sdem Più o meno È in linea Con i tempi Che insomma Nei piloti davanti Rimane sempre a 3-3-3-4 O la piccola scodata Diciamo che Non è cambiato molto Ecco Quindi Allora Non dovrebbe esserci La sosta in questo giro Quindi speriamo Che la grafica In sovrimpressione Non vada a creare Difficoltà Scompensi E rabbia A me del futuro Quando bisogna montare Questa gara Vediamo in sovrimpressione Proprio gli ultimi giri Proseguono intanto I primi 5 senza problemi Vediamo allora Gli ultimi 5 giri Tra i Luca Flamino In quinta casella E Simone Fracchiolla In sesta Come vedete In quei due decimi Credo fosse il giro Dove stiamo utilizzando Il DRS Per poter sopravvanzare Il Z da Promauro E l'ultima tornata Invece Sono sempre lì Sempre sui due decimi Di intervallo Intanto Intanto Sono rientrati Sono rientrati Nel trerino Manuel Juve E poi anche Cartista Tutto sommato Si è un po' Ricompattato Il gruppo Ecco Avevano qualche Secondo di gap E sono riusciti A recucire Molto bene Allora per Manuel Bravo Si è Tirato su le maniche Per riuscire A chiudere Questo gap Davvero ben fatto Da parte sua Perché Nel primo stint Quando ha cominciato A lampeggiare Era apparso molto In difficoltà E anche nel Riuscire a rientrare Insomma Rispetto a piloti Che Non dico passeggiavano Ma Sendo l'ultimo Del trenino Che ha tutto DRS Può permetterti Magari nel guidato Di stare un po' Più comodo E poi Ovviamente Spalancare L'ala mobile Lì Avevamo visto Manuel è leggermente In fatica Aveva subito Diversi sorpassi Poi Buon per noi Allora che Magari con questa gomma Si sta trovando Più a suo agio Lo scarico Del carburante Gialla Alla In occasione Del primo Pit Stop Seconda Sosta Invece Effettuata Da Marco Ganu In Quattordicesima Posizione Dalla Metta E a 20 secondi Segno Che come abbiamo Visto In precedenza Si ritroverà Ancora una volta Davanti a tutti E ci sarà Il caos Che abbiamo visto In precedenza Gestito assolutamente Bene Da tutti quanti I piloti E tuttavia Insomma Bisogna Snocciolarsi Muoversi Bene Si sono ben comportati Tutti quanti Credo Lopes Invece Non sarà Della partita Di Questa Situazione Rocambolesca Perché a 31 secondi Dalla Vetta Al solito Lore Ha montato Un'altra Gomma Rossa Ma Fatica Sempre A trovare E sfruttare Ogni Millimetro Questa Gomma Più morbida Portata Dalla Pirelli Insomma Viaggia Ormai Si Ha Ampliamente Chiuso I 100 Giri Su questa Pista Mentre Avviene Un altro Di questa Manovra Con Fabio Il suo Dime Che Trova All'interno Su J-Sport Però Adesso Bisogna Sare Attenti Ai piloti Con le Rosse Vediamo Un po' Se Di Legge E Famiglio Reviseranno Dove Sono Oppure Se Dovesse Staccarsi Leggermente J-Sport Potrebbero Provare A loro Volta L'attacco Per Non Perdere I primi Due Perché Anche Se Ormai Sono Prossimi Comunque Alla Sosta Oltre Un percaso Ma Comunque C'è da stare Attenti Tanto J-Sport Si fa rivedere Per un attimo Vediamo Vediamo Come Procederà Doppia Visuale Che ci permette Di Seguire Scusami Si No Alcesto Con Matteo Teo Curva 11 Si è Fatto Vedere Un Piccolo Errorino Forse Del Pilota Red Bull Doppia Visuale Che ci permette Di tenere Tutto Sommato Sotto Occhio Entrambi I gruppi Con J-Sport Sembra L'inseguimento Di Fabio Surname Che forse Va all'attacco Di Drago Invece No Di non Forzare Spegne L'Hers E stiamo Seguendo Invece Anche Dall'onboard Di Jovi Le manovre Da parte Di Z Promauro E Stem Entrambi Questi piloti Sembrano Aver Trovato Un ritmo Comodo Invece Switch In casa As Con Shumi Che va All'interno Di Jovi Si è Riuscito Nella Manovra Shumi Magari Ha lasciato Strada A Jovi Abbiamo staccato Nel momento Dall'onboard Di Jovi Nel momento Nella quale Avveniva Questo switch Magari Abbiamo Spirciato Insomma Che Jovi È un po' Più In difficoltà A livello Di usura Dello pneumatico Almeno Credo Rispetto A uno Shumi Che Dovrebbe Essersi Fermato Un Giro Dopo Quindi Ha un giro Diciamo Di freschezza Rispetto Al suo Compaglio Di scuderia Che si è Trovato Anche a battagliare Vigorosamente In precedenza Con Z Promauro E Step Può aver Bruciato Quella Piccola Ma importante Percentuale Di pneumatico Il cartista Invece Un po' In difficoltà Ha perso Ormai ha perso Il DRS Ho visto In che tempi Sta un po' Sta leggermente Perdendo Forse Anche Manuel Leggermente Un po' Oltre Forse Riuscito A prendere DRS Caratteristica Attenzione Attenzione Schumi Su Z Pro Mauro Stavolta Si toccano Leggermente Aggressivo In questo Frangente Però Era dentro Ma tanto Mauro Rischia Anche di Tamponarla Attenzione Prendete Le distanze Giuste Ci vuol Poco Qua Procurarsi A provocare Dei danni I contatti Evitabili Quindi Attenzione In Tra virgolette Difesa Di Cartista Sta comunque Tenendo Onore All'impegno Preso Nonostante Il leggero Danno All'affondo Prosegue Non sappiamo Se Questo danno È stato Scatorito Nel primo Stilt Da un Contatto Potrebbe 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 Anche Essere Segnato Da Dei Cordoli Poiché Nel corso Nella gara Di ieri In pro Diversi Hanno avuto Dei danni Insomma Sono tornati Un po' Lo spettro Dei Cordoli Alcuni Alla Scicana Diciamo Forzando Un po' L'ingresso Verso Destra Quest'anno Non ci sono Ingeri Richiesti Che lì Il panettone È molto Alto Colpa 11 Si Si Prendono Questi danni E poi L'11 Dove Il cordolo Lì All'esterno È sempre Molto Insidioso Attenzione Sempre davanti Z Promauro Si Fa Si Sono Diciamo Molto Vicini No Perché Stanno Vedendo Che Chiaramente Sdem Ha Superato Z Promauro Qualche Giro Fa Però Il gap È ancora 3 Secondi E 7 La Situazione Non è Molto Cambiata Quindi Giustamente Le assi Sono un attimo Mobilitate Shumi Si è portato Con le spalle Del pilota McLaren Jovi Non lo so Forse Rimane dietro Aspettando Che succeda Qualcosa Davanti Comunque Rimane In attesa Vediamo Piccolo Errore Forse Di Shumi Adesso 7 Decimi Ancora È una fase Abbastanza Diciamo Tranquilla Diciamo Così In attesa Dei pit stop Chiaramente Si credo Stiano allungando Tutti quanti Per andare Sulla rossa Finale E ciò Richiede Un grande Sforzo Allo pneumatico DJ Sport Di legge Flaminio Che sono gli unici Ad aver già montato L'opneumatico Più morbido 27 giri Sono ancora parecchi Tutto sommato Però Credo viaggiano Verso i 20 Con questo treno Di come morbido Già 23 In realtà Non hanno fatti E infatti Si muove Matteo Teo Quindi Vediamo se decide Per la rossa O per la gialla Lui ha già montato Due tre di gomma gialla Quindi gomma rossa Undercut Suona il campanello Un po' A tutti quanti I piloti Dalla prima Fino alla Nona posizione All'incirca Per invitarle In pit lane E fare loro scelte Credo tutti I quarti Sulla gomma rossa Per il finale Si si Penso Renterranno Ma forse Anche tutti insieme Alla fine Gli unici Saranno appunto In ass Gli unici Che avranno Qualche problema Probabilmente Vediamo 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 se rientreranno Tutti insieme Gli altri Allora Vediamo Joey In questo Ruggente Molto vicino A se Da Promauro Ma Non l'ha Un insensato Bandiera Generalmente Non lo vorrei Che la gomma Fredda Ma No Eh si L'ha perso Li pattina Tanto poi Sull'erba Ancora di più Che è un errore Tipico In quel fragente Non ha danneggiato L'ala Altrimenti Avremmo anche rischiato Una safety car Avesse danneggiato L'ala Lì Sarebbe stato Probabilmente Siabbe stata causata Una safety car Meno male Se tu fai in pit lane Invece J-Sport In seguito Da D-Legge Luca Flamiglio Tutti quanti I nuovo gomma In effetti Loro sono già andati Sulla rossa Quindi credo La gialla J-Sport Avevano un'altra cosa A disposizione Visto che D-Legge L'ha montata Così come Flamiglio La scelta di J Di andare sulla gialla E rientrano Dietro Manuel Manuel Ok Con Luigi Ha perso tanto Flamiglio Flamiglio E tantissimo Ha perso E questo sarà Un bel problema Se si trova La vettura di Manuel Davanti Nel T2 Creerà Non pochi problemi E J-Sport Anche lui Si ritrova dietro a Marco Gano Di un secondo Però C'è spazio per Compiere una manovra agevole Restare qui nel secondo Avvicinarsi Quando basta nel guidato E chiudere Il sorpasso Sul rettino principale Vediamo lì davanti Come si muore Ovviamente sono tutti chiamati Per la sosta Infatti Forse aspetteranno Immagino Aspetteranno ancora In realtà qualche giro Vediamo Dentro Sia Drago Che Fabio Una finta No Invece anche Fabio Dentro Ai box Proseguirà solo una Delle due As Immagino che c'è Tutti gli altri In pit lane No Invece proseguono tutti Essenzialmente Nel secondo Block Entrambe le ass Hanno continuato Gomma rossa per Fabio E Gialla di nuovo Per Drago Quindi magari i piloti Non si sono trovati Con questa gomma Più morbida Vediamo come J con Drago Poiché l'Undercut Ancora una volta funziona Si mette appena lì Ha perso un Eternity In questo frangente Fabio il surname Davvero strano Sia Flaminio Che Fabio Hanno perso tantissimo Nelle loro soste Eppure non c'era Così tanto traffico E Matteo Con l'Undercut Dall'essere Uno degli ultimi Del secondo gruppo Si riporta Sulla scia Sulla coda Del suo compagno Di scudere Che chiudeva Il primo gruppo A questo punto Penso veramente Che chi non si è fermato Sì Spera nel finale Che effettivamente Cioè portarla fino in fondo Poi questa gomma Però Perderà veramente tanto Ora Non so esattamente Eh però Comunque sì Sicuramente Se hanno perso così tanto Matteo ha recuperato tantissimo Sì almeno Quei tre secondi Io accusavo a Stem Ma anche qualcosa di più Visto che Era più arretrato Rispetto a Simone Fracchiola Si fermano ora tutti Lì dietro E prosegue solo Giovi E mentre che Ghanu Si apre un gap importante Adesso per Tarpare Diciamo le ali A Fabio il surname Importante Ha fatto il suo E torna ai box Certo certo Sì Questo Vediamo adesso Quando si aggiorneranno Un po' I distacchi Vediamo anche Stem È infatti Stato Lander Cattelizzato proprio Su Stem Che uff E infatti Si ha rischiato l'avviso Anche lì dietro L'ass con Shumi Gruppo che si è sgrinato Anche qui davvero tanto Con L'uscita ai box Tutti erano in precedenza Tutti sotto al secondo E li ritroviamo Abbondantemente separati Perché abbiamo pochi decimi Ma Importante Eh Sarà importante adesso La gestione Chiaramente della gomma Nell'ultimo stint Sappiamo Che ormai Si tratta di Di gestire bene la gomma Ma allo stesso tempo Comunque E anche recuperare Un po' Il gap Perché Ora si è creato Un discreto gap E continuerà a crearsi Quei piloti Che non si sono ancora fermati Giovi Veramente Si torna al discorso Che facevamo prima Con la Red Bull Probabilmente Ecco Giovi Forse Non si continua Tra l'altro Ancora Forse sta sperando In qualche Safety Qualcosa Qualcun qualcosa Non mi sembra Ci siano piloti Diciamo Più lenti in pista Che potrebbero Creare questi errori Diciamo Per quanto la pista Sia una pista Come abbiamo detto Che si presta Ecco A queste situazioni Incidenti Prima Ci siamo andati vicini A capire Una situazione del genere Con quel testa cota Della Della Aston Di Cesco Oppure era Non lo ricordo Era Manuel Sì giusto Era Manuel Però Vediamo Stiamo un po' a vedere Anche gli stacchi dietro Drago Di Legge Fabio Fabio un secondo e due Ma penso Già sta recuperando Sicuramente Recupererà E poi si porta dietro Flaminio Matteo E Zeta Promauro Che sta realtà Continuando un po' a perdere E la 3-8 Mi sembra Ora 4 No ok Più o meno Più o meno È quello il distacco Credo magari Giovi sperasse In una difesa Più vigorosa Da parte di Marco Cano Che portava Qualche pilota A forzare la manovra Invece Marco Tutto sommato Solo nel T3 Ha tra virgolette Fatto perdere Qualche decimo Ai piloti Che lo inseguivano Vediamo Se Drago Va all'interno Di J-Sport È così Mentre che la classifica In sovrimpressione Si va ad aggiornare Con l'Alpine In questo momento Prenderebbe la posizione Del costruttore Rispetto all'Alfa Romeo Ma ci sono ancora Le soste Di Giovi La singola sosta Di Giovi E Cartista Per riposizionare I piloti Dopo quest'ultimo Valzer Dei pitstop L'idea Che immaginavo Delle Tante rosse Utilizzate in gara Non è venuta fuori C'è soltanto Un treno di gomma morbida Utilizzato È troppo importante La track position In questa pista E quindi Fare due Tre soste Ad andare a sfruttare Tutti i treni Di gomma morbida Non ne vale la pena E soprattutto Visto il livello Così equo In master Sebbene Quel boost Leggero di gomma L'abbiamo visto Con Nantilegg Su Drago Per due giri È riuscito A stare un po' Più vicino a Drago Poi ha deciso Di lasciare Pepe Non ne vale la pena Rimandiamo All'ultimo giro Assolutamente E intanto Drago Eh trova Lucio Si Lucio Diciamo Questo potrà Vediamo Quanto Quanto recupererà Mao Zeta Promauro Da questa Situazione Era 4-1 3-2 Ma più o meno Non Non basterà Per rientrare Assolutamente No No Si è raccodato Fabio Ma Diciamo Anche in questo Frangente Non hanno perso Troppo Tutti i piloti Pulito Cartista Ha fatto solo Un rapido Scarto In impostazione Della parabolica Ma per far capire Drago Che voleva andare A destra Per avere La via Via libera Per andare A box Quindi Ha letto bene La situazione Drago È andato Un po' Più in alto Sulla parabolica Perdendo Qualche chilometro Orario Tant'è che Per un momento Mi aspettavo Jay magari Pensava Sperava Di avere Lo stesso Abrivio Con la quale Ieri abbiamo visto Il sorpasso di Dia Prince Su Lopez Che è Long Che Insomma Long Però aveva compromesso Molto di più La velocità In quel frangente Dall'Oves Che è Tia che arrivava Lanciato È riuscito Nella manovra Non è avvenuto Altrettanto Per Jay Sport Visto che Drago Aveva abbondante Velocità In più Rispetto a Quanto è accaduto Ieri in Pro League In un finale Incredibile Con la Pro League Sempre belle Queste categorie Ben equilibrate Dalla pre-season Dalla vedere Insomma Il livello Dei vari piloti Diciamo Soltanto Alla Sport Questa settimana Abbiamo tirato Un po' L'orecchie Ma È normale La gareggiata È così stretta Nel metro che intanto Giove quindi Le soste Vengono completate Da tutti i piloti Diciamo È normale La gareggiata Stretta E Sport Ci si gioca Tanto È importante Soprattutto Sulla distanza Di gara Dimezzata Bisogna Agire Non dico Appena La prima occasione Ma Anche quando Le gare Cominciano a Diminuire I punti Sono importanti Quindi abbiamo Visto Un fiorino Impegnato In tanti duelli E Anche una grande Difesa Da parte Di Sonia Accompagnando Michael Essenzialmente In un fazzoletto Un po' Alla Schumacher Barrichello In Ungaria Contro il moretto Dei box Quindi Fa piacere Che Vedere Tutti Vogliono Giocarsi Tutto E Ogni tanto Diciamo È normale Che ci sia Qualche aggancio Anche magari Non volontario Da parte dei piloti Ma con quel Leggero Microlag Quella leggera Desincronizzazione Che Pochi centimetri Però In una pista Come detto Così stretta Sono risultati Fatali Per diversi piloti Sì Adesso È interessante Vedere Di questi Sei piloti Davanti Chi è Che si potrà giocare Diciamo Delle carte Negli ultimi Ormai Penso che Gli ultimi Dieci giri Più o meno Prima Difficilmente Vedremo Piloti Che rischiano Qualcosa Che magari Riscano appunto Di compromettere I pneumatici E quindi Ancora Un po' Presto Abbiamo Una classifica Piloti Per i primi Quattro Classificati Ribaltata In pista Dragolevitato In quarta posizione In classifica Piloti Primo Adesso J Sport Che è terzo Nel piloti Secondo Di legge Secondo Nel piloti Terzo In pista Fabio Primo Nel piloti E quarto In pista Flavio È quinto Nel piloti E quinto Rimane Anche in pista Con Matteo Davvero bravo In quell'undercat Nel riacquodarsi Rimettersi lì In zona Per Per come Sera messa Sì È stato un bel recupero E poi comunque In pista Per quanto Non ci sono state Tantissime occasioni Per vederlo All'opera In sorpasso In manovre Comunque Non ha fatto Non ha avuto sbavature Ha tenuto bene Il ritmo Passo Concentrazione Che alla fine È quello Che 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 è importante Per queste gare Alla fine Conta quello Sì È un ottimo Biglietto da vista Come detto Già in precisione Ha dimostrato La sua grande velocità Ancora di più Questa sera Anche la pulizia Nei duelli Perché È venuto Che si è messo prima Ha posto facile Tra virgolette facile E Non si è misurato Con nessuno No È dovuto stare Nel gruppo Nel venuto fuori È utile Prendere Consapevolezza Perché Chiaramente Quella che Sicuramente Manca In questo momento O comunque Su cui Diciamo Deve Appunto Lavorare Ma in realtà Noi eravamo Sicuri Appunto Che Sarebbe 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 Un po' Di esperienza Sì Però Insomma Ci avremmo messo La mano sul fuoco Su questo punto di vista Vedendolo in precisione Vedendolo appunto Il suo interesse E Comunque Vediamo Dai Sicuramente Non sarà Insomma Vedremo Se ci saranno altre occasioni Per correre Però Sicuramente Questo Questo gran premio E' importante Per 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 Egregio Costituzione Nei confronti Dell'assente Mattia Metrano Pilota ufficiale In casa Red Bull Giro 55 In conclusione Con un Flaminio Che ha pressato Un po' di più Su Fabio Il surname Alla staccata Di coro 1 Del 54 Fabio a sua volta A pressare A farsi vedere Più vicino Rispetto a Di legge Quindi Credo Si arriverà Così comodamente Verso Fino al settantesimo Giro Con i piloti Che si stuzzano E cercano Magari di capire Dove Ne hanno leggermente Di più Anche quel 1 o 2 metri In frenata Per capire O anche Chi si nasconde Magari un G Dice Eh no Vedi Non ne ho Su Drago Non riesco In frenata Poi all'ultimo Giro Toglie 20 metri Complicato 20 forse Sono troppi E insomma Situazione strategica In questo momento Di attesa Verso il finale E inzato Promoro Si ritrova ancora una volta Leader di quel Secondo gruppetto Che però In realtà Si è sgranato Come detto Dopo la sosta È stato davvero Particolare Quanto tempo È stato perso Da alcuni piloti In ingresso O in uscita Della pit lane Non credo Con Dei Dei blocchi Diciamo Nella propria Piazzola Quindi i piloti Non sono riusciti A ripartire Dopo la sosta Perché erano Tutti abbastanza Separati A livello Di garage Non c'erano Vetture troppo vicine Erano anche Tra virgolette In pochi Cioè erano Due gruppetti Da cinque E però è stato Particolare Si sono separati Adesso si stanno Riavvicinando Cesco, Stem e Schumi Rispetto a Z Promauro Giovi con quel giro Che ha dovuto fare in più Ha ovviamente perso di più Rispetto al suo compagno Di scuderia Che chiude La top ten Schumi 91 Legend In decima casella Quattro e mezzo Di vantaggio Su Giovi Onore A cartista Che prosegue In perterrito Nonostante il danno Al fondo In tredicesima posizione Marco Cano Che ha provato Un po' a far saltare Il banco Con i suoi Molteplici Undercut Manuel Juve Purtroppo molto Arretrato Dopo quella testa Coda Quindi impostazione Di curva 1 Va anche a pizzicare L'erba Attenzione Perché poi È facile arrivare Lunghi Avere L'asse sinistro Delle due gomme Anteriore e posteriore Sporco Qui nel guidato E commettere Un ulteriore errore Che in questo modo Si è andato A compromettere Il suo GP In una decina Di giri fa Chiude i piloti 15 Presenti ancora in pista Lorenzo Tamori Lopeschi 88 Nella settimana Della sua Duecentesima gara Nel corso Dei campionati fit Arrivato A 200 E sport E 201 E 202 Oggi In master Anche per lui Non ho notato Gli errori Credo Come detto in precedenza Un feeling mancante Con la gomma più morbida E poi Una volta che si perde Del trenino Nella zona Di DRS È facile Scendere Ancora di più Nelle retrovie Probabilmente Sta pregando Per qualcosa Lì davanti Per un eventuale Safety Che rimetta Tutti in gioco E magari Provare un colpo Gobbo Nel finale Perché comunque Stiamo arrivando Nel finale Manca poco ormai Sì I giri Scorrono Rapidamente Sì Quindi Vediamo Siamo quasi Nella finestra Degli ultimi giri Pazzi Ecco Dopo un gran premio Comunque Tutto sommato Di manovre Insomma Diciamo Senza prendersi Troppi rischi Tutto sommato Ho visto Flaminio Volare Sul cordero Di curva 11 L'ho visto Veramente male No Comunque Vediamo Sì Perché il 58esimo Giro Adesso Inserano il 59esimo Di stacchi Sono rimasti Invariati Il data per Mauro 4 secondi e 7 Da Da Matteo Sì Diciamo Forse il gap Un po' più Che più o meno Poi alla fine Quello che Che avevamo Anche in precedenza Con Giovi Che sta recuperando Quei giri Fatti in più Che gli hanno Per me Gli hanno fatto perdere Qualche secondo Però insomma 3 secondi e 9 Dal compagno di squadra Non so Quanto potrà Cambiare per loro La situazione Perché comunque Davanti Schum Davanti Sdem Poi c'è Cesco Mauro Vedremo Vedremo Però Sono due gruppetti Come dicevi a te In paralleli Sono due situazioni diverse Vediamo Sicuramente Qualche cosa Qualche cosa Cambierà Ecco Sì Come ho detto Una bella Edizione Anche Questa quarta Corsa sul circuito Di Zandvoort Con la Master Ovviamente Non c'è stato Un sorpasso Ad ogni giro Però È questo Che interessa Anche Diciamo Negli effettivi Appassionati Di Formula 1 Che non vogliono Soltanto la ruotata In curva 1 E via A posto La gara è finita No Le gare sono al 50 100% È lunga È strategica È Faticosamente divertente Arrivare a giocarsi Tutto all'ultimo giro E quindi Per il momento Quarta edizione Davvero bella Con il Gran Premio d'Olanda Si muovono le carte Lì dietro Allacchi Cesco E va al sorpasso Di Zedapro Mauro Bravo Cesco È rientrato nel secondo Su Mauro E chiude subito Il sorpasso Appena vede la preda La va a zannare E prende così La settima posizione Dovrà difendersi In questi ultimi 12 ciri Tenere magari qualcosa Da parte A livello di Erse Per un'eventuale risalita Da parte di Mauro Stem e Shumi Per No Meglio dell'ottava Della settima posizione Non si può andare Sono troppo lontani Lì davanti Sì Diciamo Bisogna vedere poi anche Le rosse davanti Perché comunque Matteo c'ha 14 giri Poi arriverà A averne anche 24 Vediamo Vediamo un po' Quello che può succedere Sì Tutto sommato La distanza Che mi pare Ha coperto In precedenza Jay A meno 22 giri Li aveva fatti Con quel primo stint Con quella gomma rossa Quindi Credo sia Abbordabile Perché L'abbiamo visto Cominciare a faticare Perdendo la posizione Su Drago e Fabio Ecco Quello magari sì Bisogna vedere appunto Come Come i piloti Con le medie Arriveranno Poi Al Anche loro Al ventesimo giro In omaggio Tanto vedo C'è scambio Leggermente Sulla erba A sinistra Nel rettino principale Non so Forse Una piccola distrazione L'ho visto Spuntare Pericolosamente A sinistra Poi Ripreso La traiettoria Lo vediamo anche Dalla grafica Insomma L'impressione Con lo split screen La cura Targata Formula Italian Team 13 giri Per il momento Percorsi Da Dragoli Evitato Su questa gomma 14 Per J-Sport In seconda posizione E siamo Sommato Lì In un delta Tra i 13 E i 15 Giri Per Dilegge Fabio Flaminio E Matteo Teoteo Questi 4 piloti Su gomma rossa Poi Il triello Di Cesco Z-Promauro E Stem Su gomma gialla E poi Fino a Shumijovic Artista Egano Sul rossa Stem Ma addirittura Un decimo Da Z-Promauro Nelettino Che porta La curva 11 Sicuramente Ci proverà Perché Z-Promauro Sembra un po' In difficoltà E sono sicuro Che Che potrebbe Essere Preda Non dico Facile Ma Sicuramente Ci proverà Stem E pilota McLaren Sì Anche perché Sta leggermente Allungando Cesco L'abbiamo visto Dalla visuale Aerea Lì alla parabolica Invece Vuole attaccare Ma si vede Attaccato da Shumijovic Va all'interno In curva 1 Prova a resistere Stem I due vicinissimi Che gran bella manovra Molto rispettosa Tra i due Con Shumijovic Che alla fine Riesce a chiudere Il sorpasso Gran bella Movimento Da parte di Shumijovic Stem Che aveva impostato Molto largo La 4 Sembrava voler Provare Una linea differente A questo punto Gli conviene In maniera Franco bollato A pilota Haas Che sicuramente A sua volta Proverà l'attacco Z-Promauro E Come abbiamo già visto Poi Si può creare La situazione Per provare L'attacco A sua volta E passare anche lui Il pilota Al pin Ennesima sosta Da parte di Marco Cano Questa volta Non c'è lo spazio Per un undercut Perché nessun altro Si andrà a fermare A meno di safety car Nel finale E è più un tentativo Di attacco Al giro veloce Sebbene Poi per ottenere Questo punto Debba Rientrare Nei primi Dieci classificati Shumijovic A quanto pare Ha deciso Di attivarsi Appena Ci hanno sentito Che Vediamo Sdem Vicino Z-Promauro Però In realtà Non è riuscito A avvicinarsi Molto A Z-Promauro Shumijovic Forse anche A causa di Sdem Che l'ho un po' Pizzicato Nel settore centrale Però Vediamo Ancora Ancora ci sono Diversi giri Però Vedo Z-Promauro Ripeto Un po' In difficoltà Sempre sui Ottodecimi Ora sei O otto Ballerina Homeboard Invece con Luca Flamio Che si trova Ad inseguire I primi quattro Classificati Nella Classifica Piloti Dietro di lui Gli guarda Comodamente Le spalle Il suo terzo Pilota In casa Red Bull Matteo Teoteo Esorbiente In questa Master Che sta davvero Ben sicurando Finora Granso Ora stesso Rifato Il giornale Ma intanto Qui L'ultimo Curvone Verso Sinistra E va a Chiudere Il T2 Si entra Poi Nella terzo Ed ultimo Settore Del tracciato Lada Shikan Strettissima Che Tarpa Le ali Compliche Piloti Per gestire In trazione Tutti i cavalli Delle vetture Attenzione Dietro Perché Non sono Sicuro Ma Potrebbe Non avere Il DRS Z-Promauro Vediamo Se Apre Si C'era Ok Ma Ovviamente Di Po Questo Facendo Fatica Dal timing Invece Tra Drago E J-Sport La colonnina Sulla Sinistra Fantomatica Della Sofferenza Credo J-STI Cominciando A prendere Le misure Su Drago Levitato In curva 1 In questo Giro Arrivato A 2 Dessimi In quello Precedente A 180 Quindi Comincia A capire Con quanta Velocità Può Arrivare Su Drago Levitato E ci Può Stare Invece Anche La Strategia Per Poi Colpire Nel Finale Cogliere In fallo Tra virgolette J-Sport Molto vicino In questo Frangente Anche Di Lecce A Iacu Siamo Nel Guidato Dove Magari Lo stesso Luigi Comincia A smottonarsi A fare Delle Traiettorie Più Strette Tutti Comodi Sembrano Ampeggiare Solo Matteo Teo Teo Magari Andiamo A vedere Dali Tempi Se Stiamo Velocizzando Il Ritmo E Forse Per Questo Che Ci Può Stare Che Matteo Comincia Ad Essere Un po' Con l'acqua Alla Gola Sempre In zona Di DRS Ma Al limite Con Ders Anche Per Jay Che va Sperniciare Tra Quei Levitato Vediamo Invece Shumilaggen Su Z Pro Mauro Anche Qui Sorpasso Di DRS Con Mauro Che Non Aveva L'ausilio Della Mobile Allora Preciso Perfetto Sorpasso Per Shumilaggen Che ha anche Spazio Per Rimettersi Sulla Traiettoria Ideale In Ottava Posizione Sorpasso Invece Per La Leadership Con Jay Sport Che Ha fatto Lo stesso Di quanto Abbiamo visto Con Shumilaggen Su Dragoli Levitato Diciamo Poco Empatico Il Sorpasso Nel DRS Ma Importante Per Capire Se OJ Decide Di dare Un Piccolo Strappo Per Tastare Diciamo Il Limite Dei Piloti Appena Dietro Di Lui Ha Già Avuto Dieci Gare Per Vedere Che È Ovviamente Molto Simile Al Suo E Forse Ha Tenuto Un Po Di Hertz E Magari Prova A dare Un Piccolo Strappo Per Già Comunque Fare Schermatura Perché Comunque Una Situazione Un Po In Ogni Caso Da Stare Attenti Perché Ci Sono Ben Cinco Piloti Dietro Di Lui Pronti A Approfittare Di Una Qualsiasi Lotta O Errore O Diciamo Anche Semplicemente Tentativo Di Sorpasso Che Può Portare Poi A Conseguenze Contromossa Da Parte Di Drago Invece No Arriba Molto Vicino In Frenata Troppo Vicino In Frenata Si È Trovato Risucchiato Dal Vortice Della Alpina DJ Sport È Arrivato Davvero Tanto Vicino In Impostazione Tutto Sommato Ingresso Di Curva Uno Grande Rischio In Questo Francente Per Drago Che Ha Fatto Tanti Giri Con Aria Pulita Poi Si È Ritrovato Di Colpo Con Questa Velocità Extra Un Attimo Di Panico Paura Sia Per Jay Che Si Immagino La Freccetta Diventare Sempre Più Rossa Alle Sue Spanne Sì Invece Tornando All'altro Gruppetto Dietro Forse Sdem È quello Che Non è Riuscito A stare Vicino A Shumi Come Dicevamo Prima Infatti Non Ha Portato L'attacco A Z Pro Mauro Ora Più O Meno Sono Tutti Alla Stessa Distanza E Vediamo Se Shumi Ne Avrà Ma Penso Di Sì Per Andare Attaccare Anche Cesco Recuperare Qualche Punto Intanto Mauro Salta Molto Sul Cordero Di Curva Undici Arriva Quasi Nella Ghiaia E Vediamo Magari Ecco Qualche Punto Però Comunque Sono Sempre Vicini Tutti Contro Da parte Di Drago Rispetto A J Sport Anche In Questo Frangente Sorpasso Davvero Sì Negli Ultimi Metri Ma Agevole Con Il DRS 67 Di 72 Cominciamo Quasi Ancora Manca Un Giro Le Mosse Tattiche Mosse Tattiche Attacchi Così Si Stanno Contando Probabilmente Giri Sanno Guarda Devevo Attaccare In Questo Non Nel Prossimo No Quando Arriviamo All'ultimo Giro Dove Ci Troviamo E Intanto Di Leggio Sta lì E Dice Vediamo Che fate Alla Prossima Magari Mi Infilo Anch'io Si Comincia Nemmeno Ad Lì Questi Ultimi Sei Giri Diciamo La Voglia Di Far Bene Guadagnare Quella Posizione In Più Compensa Quella Fatica Mentale Anche Che si Comincia A fare Che So Rasterzo Qui Alla Penultima Curva Di Grazo Queste Manovre Dobbiamo stare Attenti Perché Comunque Non Aiutano Né Le Gomme Ma Neanche La Concentrazione Potenzialmente Pericolose Queste Manovre Tanto Shumi Shumi Su Cesco Sempre Curva 1 Il Teatro Del Sorpasso Essenzialmente Mi pare L'abbiamo Vesti Quasi Tutti Qui A meno Di Errori Dei Piloti In Altri Frangenti Qualcuno Ci ha Provato Alla 7 Cesco Credo Abbia Dato Un Piccolo Colpetto Al Posteriore Di Shumi Legend In Frenata In Discesa Alla 4 Anche Per Loro Si Prospetta Un Finale Importante Con Il TRS La Settima Posizione Per Il Non Tanto Il Campionato Ecco Avevo Detto Durante Le Qualifiche Fino Alla Settima Posizione Potrebbero Essere Ancora Tutti I Protagonisti La Settima Posizione Era Per Luca Biglio Poi C'era Di Mezzo Shumi Diciamo Questa Gara Di Arretra Molto Stem Provato A Cercare Di Ritagliarsi Un Varco Senza Da Pro Mauro Ma Nulla Da Fare Una Gara Questa Che Fa Selezione Per La Corsa Al Titolo Per Carità I Punti C'erano Importanti 70 Diciamo Allontana Sia a me Che Magari Anche Agli Altri Piloti La Possibilità Di Puntare Un Bottino Un Poi Più Grosso Diciamo Per Shumi E Luca Adesso Rimarranno Le Soddisfazioni Di Tappa Singola Tanto Vediamo Se Cesco Su Shumi No Un po' Lontano Però Dietro Stem Dall'esterno Sovra Sterzo In Zeta Pro Mauro Doppio Triple Quasi Ad Agganciarsi Con Stem Che Con La Traiettoria Esterna Riesce A chiudere Un bel Sorpasso Mauro Che è Arrivato Profondissimo In frenata E su di Loro È tornato Sotto Giove Eh Piano Piano Sì Ci ha messo Diversi Ciri Però Insomma Le Differenze Di Di Gomma Ora Forse Si Inizierà A Sentire Vediamolo Grande Capabilità Da parte Del pilota Asa È riuscito A chiudere Un delta Di 4 Secondi Se non Vado Errato Dopo La Sosta Mauro Sembra Cominciare A Faticare Con Il Posteriore Che Non Vuole Girare A Centro Corva È interessante Capire Davanti Anche Come Se C'è Qualche Differenza Se Ancora Sembra Parte Qualche Scodata Che È Appunto Signalato Anche Te Prima Più O Meno Mi Sembra Tutto Sommato Non ci Siano Grosse Differenze O Grossi Errori O Accenni Errori Ecco Diciamo Grande Carica Per J-Sport Che Arriva Davvero Sotto Quasi In Modalità Nascar A Spingerlo Flaminio Invece Su Fabio Difficile Ritrovarlo Sì Eccoli Appagliati L'uscita 1 Poi Prima Volta Che Flaminio Arriva Molto Sotto A Fabio In Curva 1 È Una Prova Intanto Dietro Si è Girato Cesco Caos Qui Alla Curva 4 Mauro Ringrazio Per Prendere Due Posizioni Sì Cesco Presso Il Contatto Molto Bravi Nel Riflesso Perché Si è Creata Una Situazione Pericolosissima Con tre Macchine In una Curva Che Insomma Non è Molto Simpatica Quando Trovi Una Macchina Girata In Traverso Lì È Bastanza Preoccupante Comunque Vediamo Sembrerebbero Ripartiti Senza Danni Chiaramente Vedo Messi Un po Peggio I piloti Qua Con Le Medie Rispetto Punta Schumi Che Già Sta Andando Prima O Ritarda Davvero Tanto La Staccata In Curva Uno Tra Quelli Evitato Sembrava Quasi Che Nessuno De Due Volesse Andare Tant'è Che Tilegge Per Un Momento Entrato Nell'inquadratura Con Grande Velocità Rispetto A Loro Particolare Questo Momento Comunque Switch Importante Al Nonostante Cio Sia J-Sport Che Dilegge Entrambi Militanti In Ferrari Decisero Di non Fermarsi A Arrivare A Compiere Tutti I 72 Giri Previsti Per la Distanza Totale Di Gara Con Lo Stesso Treno Di Gomma Intermedia Quindi Vedremo Se Riuscirà Accogliere Anche In Quest' Annata Il Successo Jakub Rochita Per la Penultima Volta Qui Alla Scicanda Strettissima Si è Si cerca di stare a destra e fare quanta meno strada possibile Avere più velocità Comincia adesso quindi l'ultimo giro Il Gran Premio d'Olanda La Quarta Edizione per la Master League 2023-2024 Dall'esterno Drago Lievitato Su J-Sport Con il DRS Fa strada in più Ma il banking aiuta Gira strettissimo J-Sport Sovrasterzo Per Drago Lievitato Che perde La posizione Rispetto a Dilegge Dall'esterno Vicinissimi Due Prova a cercare un barco Anche Fabio Zurname Sale tantissimo Drago Lievitato Continua a fare strada in più Rispetto ai suoi avversari Ma anche la velocità Per riuscire a difendersi Fabio Zurname Costretto ad accodarsi Sembra fatta per J-Sport Che scappa via A sette decimi Vicinissimo Qui Fabio Zurname Impostazione giù In discesa alla sette Si toglie solo una marcia Poi in pieno Anche all'ultimo giro Per cogliere quei tre Quattro In realtà anche due Punticini in più Che potrebbero garantire La posizione Anche a Luca Flaminio Se riesce a prenderla Nei confronti di Fabio Zurname Non sembra farcela Qui in trazione Grande sovrasterzo Del leader del campionato Fabio Zurname Che prova a stare vicino Rispetto a Drago Lievitato Ma nulla da fare Sembra essere fatta A meno di errori In trazioni Qui alla chicane Con Fabio Che rimane lì Idem Drago Idem Di Legge Non ha nessuno da sopravvanzare Jakub Erochita J-Sport Per l'ultima volta Su alla parabolica Vince il Gran Premio d'Olanda Categoria Master League 2023 2024 Volata invece Tra Di Legge E Drago Lievitato Per 24 millesimi La zona di DRS Anticipata Prima della parabolica Permette ciò Con la volata Quindi tra Di Legge E Drago Lievitato Drago che però Non riesce a sopravvanzare Il pilota Ferrari Chiude in quarta posizione Fabio Zurname Poi Flaminio E Matteo Teoteo Che nell'ultimo giro L'ha data su Si è risolto Non è cambiato molto In realtà nelle retrovie Con Schumi Che ha mantenuto La settima posizione È arrivato vicinissimo Ci riesco a 45 millesimi Mauro in nona Joe in decima È riuscito a sopravvanzare Stem A chiudere la zona punti Poi attendiamo L'arrivo di Cartista Manuel Juve Lopeschi E Marco Gano Gran bel giro finale Drago avrà sicuramente Da recriminarsi La trazione in curva Però diciamo Quegli scambi di posizione Con J-Sport Forse sapeva anche lui Che a quel punto Sarebbe stato fondamentale La posizione rispetto a Jacopo Infatti poi di legge Era chiaro Che ci avrebbe provato Fino alla fine Ci avrebbe provato Lo sapevano Lo sapevano E infatti è successo E J-Sport è riuscito Con esperienza A cavarsela E tagliare il traguardo In prima posizione Una gara importante Per la classifica Che avvicina Ancora di più I primi tre Con Fabio che va Quota a 155 Di legge E J-Sport Appaiati A 144 punti L'uno Drago 119 Anche lui Rimane ampiamente in corsa Staccato Shumi Legend Appena sotto I 100 punti È la vittoria Numero 19 Per J-Sport Sui campionati Targati Formula Italiano Ma la sua 152esima Gara Selfie Di rito Per il buon Jakub Che Insomma Ancora una volta A livello di podi Allunga Nelle statistiche Di tutti i tempi Poiché era già primo In questa particolare Classifica Va a quota 58 Stacca Amos Laurito A quota Ormai da diversi anni Ormai da diversi anni Ovviamente Dal 2000 S Fermo a quota 55 Saro Prost A quota 54 Ecco di legge Arrivando a quota 55 E Guaglia Sutil Quindi Vola in seconda posizione Rimane a quota 54 Invece Flaminio Certo è che questi Sono i podi Non in Master League Ma nelle varie categorie Nella quale Hanno militato Rimane la statistica Delle vittorie Adesso lui va a 19 Scavalca Una Pulitan È in nona posizione Come Il numero di vittorie È complessivo Chiaramente Sono lontane Le 27 Di Sutil Però Tutto sommato Piano piano Ne parlavamo giusto ieri Dopo Dopo la gara Della Dopo la telecronaca Della Pro Però È ancora lunga Però insomma Dai Sicuramente Al podio Può puntare Chissà Chissà Lui è molto Da questo punto di vista Non L'ho visto un po' schivo Però Sicuramente La possibilità c'è Questa Master Abbiamo visto Comunque la possibilità di vincere C'è Bisogna stare attenti Alla qualifica Ma Come dicevamo Nonostante la qualifica Sia stata abbastanza Negativa È riuscito lo stesso A emergere E a vincere Molto bene Allora noi ci prendiamo Un attimo di pausa È il tempo di recuperare I primi tre classificati Per le consuete interviste Post-cara A tra poco Amici di Formula Italian Team Se sono qui È per un annuncio importante Ebbene sì Vogliamo farvi un regalo Un regalo? Che si tratta dai? Un momento Ci arrivo Mi dai un secondino Arrivo Dai Luca Non tecchi sulle spine Che stiamo provando Cosa vuole in pentola? Vogliamo farvi un regalo Anzi due Ma Come fare? Molto semplice Vi basta seguirci Su Twitch Infatti Alla fine di maggio Alla fine della nostra Stagione agonistica Due regali Entrambi Estratti A sorte Il primo Fra gli abbonati Che ci avranno sostenuto Per almeno Tre mesi consecutivi Da tre a cinque mesi Per la precisione E il secondo Un pochettino più grande Estratto Fra gli abbonati Che ci avranno Sostenuto Per sei mesi O più Ma non ci credo Ma Luca sei serio? Allora corro Corro subito Ma non scherzare Dei regali Assurdo Ma chi se ne frega La mia master Io vi saluto Ciao ragazzi E quindi Non perdete tempo Andate su Twitch Seguiteci E rinnovate Il vostro abbonamento O iniziate a farlo Valgono tutti gli abbonamenti Anche Prime Perché se avete Prime E non lo sapete Su Twitch L'abbonamento È completamente gratuito Sì vabbè Luca Ho capito tutto Va bene tutto Però Dicci che cos'è sto regalo Cioè vogliamo sapere qualcosa Dai Eh adesso vuoi sapere Un pochettino troppe cose Rimanete sintonizzati qui Vi faremo sapere Anche qual è il vostro regalo Nel frattempo Ci vediamo su Twitch Or dunque di nuovo in diretta Questa volta Per il post-gar Con i primi tre classificati Del Gran Premio d'Olanda Categoria Master League 2023-2024 Cominciamo allora Come di consueto Dalla prima posizione Con Jacopo Rochita Che Nelle statistiche Lo dicevamo Primo Di tutti i tempi Eccetera eccetera Per i podi Ma a te per il racconto Decisamente più empatico Ed emozionante Di questa serata Diciamo che è partita malissima Perché Durante il giro di qualifica Voduo fa un secondo tentativo Che doveva essere Un po' di ritmo Dopo il primo tentativo Che non era stato bruttissimo Ma purtroppo Ho fatto un errore stupido In entrata di curva a te Praticamente Ho perso la macchina Sono andato a Mura E lì Molto rammaricato Perché poi vedendo i tempi Potevo fare molto meglio Al secondo tentativo Ma Avevo paura Di aver perso Una grossa chance Di poter partire avanti Quindi in gara Quando sono partito La mia idea era Cercare una strategia Per Tornare su Solo che avevo visto Che più o meno Tutti erano partiti Con le hard Qualcuno con le medie Ma era rimasto nel pacchetto E le gomme Erano più o meno tutte uguali Quindi stavo cercando Un po' di Visualizzare Durante il primo stint Che cosa potessi fare Finché ho deciso Di A quel punto Di Montare la rossa Un filo presto Nel tentativo Inizialmente Solamente Di scremare il gruppo Quindi cercare di fare Un undercut Per passare qualcuno Ma Con l'idea Di spaccare Utilmente il gruppo Perché eravamo Tutti insieme Tra compagni di squadra E quindi Quando ho visto Che questa tattica Ha funzionato Nel secondo stint Ho cercato Di tenere Un ritmo Accettabile Sapevo che dietro Mi andavano a prendere Quindi non ho forzato Molto E ho cercato Di usare il passo Di chi aveva Guma media Quindi Di Drago E di Fabio Nel tentativo Di mantenere Il gap su quelli dietro E rimanere solo Noi in lotta Perché alla fine Eravamo in cinque Eravamo fino a Luca Quindi aveva La mia idea Era perfettamente Sortita Avevamo eliminato Praticamente Metà griglia Poi all'ultimo stint Invece ho deciso Di mettere La media Perché Sapevo che la rossa Era sì buona Ma non potevi attaccare Invece con la media Magari potevo spingere Un filino più Proprio proprio Nel finale E quindi ho deciso Di optare Per quella gomma lì E è andata molto bene Perché mi sono tenuto Ovviamente Chi aveva gomma rossa Dietro E avevo la battaglia Con Drago E con Drago Ho cercato di studiarlo Ho cercato di passarlo Prima Per vedere un po' Cosa faceva Ma lui ho visto Che ha voluto Ripassarmi subito E evidentemente Aveva paura di Luigi Dietro Che magari potesse attaccare Nel tentativo Un po' di Aspettare gli ultimi giri Io sapevo di avere La macchina più scarica Forse di tutti Nella griglia Se non la più scarica Era la seconda macchina Comunque sapevo di essere forte Quindi al penultimo giro Sapevo che all'ultimo giro Lui poteva difendersi Perché se lo poteva aspettare Allora ho cercato Di passarlo al penultimo Non usando troppo Aersin E di difendermi All'ultimo giro Spalancando tutto L'Aersin Che avevo E fortunatamente È andata bene Perché ho coperto L'interno E Drago è arrivato Leggermente lungo Sullo sporco E lì mi sono difeso bene E da lì Poi è nata Questa vittoria È una vittoria Sono molto contento Perché l'ho costruita bene E è stata fondamentale Dopo comunque Spa che non è andata Benissimo Questa è una bella vittoria Molto bene Grazie Jay Allora veniamo al secondo posto Per un rampante Luigi di Legge Approfittato Proprio nel finale Per cogliere Diciamo Fare un gradino in più Sul podio Ma anche per te Vai con il racconto Della serata Beh diciamo che Drago Mi ha voluto fare Regalo di compleanno Visto che è la mezzanotte Diciamo Auguri Grazie grazie Auguri auguri E quindi Mi ha voluto fare Questo regalo in anticipo Scoccare dalla mezzanotte E No Scherzi a parte Credo che La gara segue Al tranno Delle precedenti Quindi Con 4, 5, 6 piloti In lotta per la vittoria E poi È il dettaglio Che Premia L'uno Piuttosto dell'altro In questo caso Jacopo Aveva notato Sì da subito Che c'era una macchina Scarica Sul dritto Veramente In uscita dalla parabolica Riprendibile Allungava di 10, 20, 30 metri In un attimo Quindi Avevo capito che Il massimo ottenibile Oggi sarebbe stata Una seconda posizione Che Vista La posizione Diciamo In partenza In griglia Sullo schieramento Dopo la qualifica Sesto È un mezzo miracolo Onestamente E Niente Ottima sesta Ottima chiamata Dal muretto Il nostro Il nostro Matteo Ha fatto un altro Lavoro straordinario Dei suoi E Sapevamo Sia io Che Jacopo Che comunque La rossa Manteneva il ritmo Della gialla Senza soffrire Soprattutto se In DRS Infatti Nonostante I piloti Abbiano optato Per soluzioni Differenti Sulle gomme Siamo stati Tutti lì Compatti Fino alla fine A spuntare È stata Jacopo Che Come detto Ci ha avuto Un quid in più Perché è innegabile Che Con una macchina Così scarica Non era facile Andare così forte E Ho approfittato Infine Dell'errore di Drago Sono 18 punti Buoni Onestamente Non c'è molto Che possa dire Perché la gara Non è stata Poi così emozionante Ecco Giusto un tale Attenzione Negli ultimi giri Però per il resto Diciamo che è stata Quasi tutta gestione Tutto qui Molto bene Grazie mille Gigio Arrivano Da parte di Max Basile Anche gli auguri Per il buon Cumpleanno Veniamo Grazie 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 Max Grazie Veniamo al terzo classificato Invece è Drago Limitato Che Non è riuscita La snaiperata La mossa alla Snake Nell'ultimo giro Ti vedevo nel cartone Nascosto Poi invece Non è riuscito Nel migliore dei modi Ma Innanzitutto Faccio anche gli auguri A Luigi Però il regalo Credo gli sia Piaciuto Ma ci ha detto Sì sì Molto bello Grazie Del resto Sono nodo E lo so di più Perché Se conduci una gara Quasi dall'inizio Alla fine Perché comunque Ho fatto la maggior parte Dei giri in testa Riuscivo a gestire Quasi sempre Il distacco O meno tale Che qualcuno Mi potesse attaccare Puntando sempre Sull'uscita di curve Migliore e cose E poi perdi La gara così Perché Perdi anche Il secondo posto Usatemi il termine Ma sei un coglione Tutto qui Perché L'ho proprio gestita male Gli ultimi giri L'ho gestita Veramente male La parte In realtà iniziale È stata I primi giri Sono stati più difficili Perché Credo Che Ho messo più carburante Rispetto a tutti Perché Facevo veramente Tanta fatica Comunque Però In quel momento La prima parte di gara In generale Era meglio restare davanti Proprio per Far scaricare la macchina Se mi mettevo dietro qualcuno Rischiavo poi Di ritrovarmi Con più carburante Infatti Credo che Verso la metagara Questo trend Rispetto a Yates È un po' invertito Perché Nel T2 Cominciavo a guadagnare Di più Non credo Fosse dovuto Un discorso di gomme Perché più o meno Eravamo tutti lì Con usura Anche se Tra media e soft La strategia L'avevo anche Gestita bene I distacchi Le posizioni La track position Cercare di tenermi O primo o secondo Ho avuto anche Un piccolo spavento Con Fabio e Luigi Nel T2 Perché Ho tentato un attacco Un po' improvvisato Su Fabio Che L'ho leggermente Toccato E lì Luigi mi ha anche tamponato Non so se Gli ho provocato Qualche danno Spero davvero di no E E poi La parte finale L'ho proprio gestita male Perché Mentre nel Secondo stint Riuscivo Avevo spiegato Tanto hers Nel secondo stint All'inizio Per guadagnare Posizioni Guadagnare tempo E Nel momento in cui Sono riuscito a mettermi davanti Sono riuscito comunque A recuperarlo Senza problemi Ero tornato dopo Quasi dieci giri Restando davanti Senza utilizzarlo A rimettermi quasi Sul cento O comunque novanta Nel terzo stint Invece sarà Perché si andava più forte Non ci riuscivo Avevo il 60% Sono arrivato A cinque giri Dalla fine Quattro Che avevo ancora L'ottanta Settanta Non riuscivo A recuperarlo E poi Niente Ho perso Dopo la gara Come uno stupido Per non dire altre Parolacce E Niente Sono deluso Perché alla fine È un terzo posto Che non mi serve a niente In termini di classifica E Guardando anche un po' Le prossime tappe Questa è una delle piste Che mi piaceva Insomma Andava fatto a bottino Pieno Non esserci riuscito È un gran peccato Molto bene Grazie mille Drago Allora Rimango con te Magari Certo Hai già Tra virgolette Anticipato Che le prossime piste Non saranno così Intriganti Però Obiettivi O attese O pensieri In prospettiva Di Monza Monza È Penso Una delle tappe Che Se avessi dovuto Decidere Se saltare Ungheria O Monza Avrei saltato Tutto il cuore Monza Non me ne vogliono I tifosi Però io Monza Non mi sono mai Trovato Perché è una pista Dove difficilmente Fai La differenza E in più Non so Io proprio Non mi ci trovo Quindi di base È una pista Dove fai difficilmente La differenza Poi se c'è problemi Si è messo male Quindi Non credo di Poter lottare Per la vittoria E Visto la mia posizione In classifica È un male Perché le gare Comunque che mancano Non sono moltissime Io ancora Ho un Everest Da scalare Ovviamente Stessa domanda Per Luigi Che insieme a Jay Insomma Hanno già provato Ma con Diciamo una vettura Un po' più lenta Se il circuito Fosse lo stesso Sarebbe stato Anche interessante Come cosa Il problema È che il circuito Così come è fatto Su F1 Veramente Non lo digerisco Cioè Il Monza Mi piace Ma la Monza Di Codemaster Proprio no Quindi Credo che Comunque oggettivamente Sia una pista Dove Più o meno Quasi Tre quarti Della grinda Possa ambire Insomma Ai 25 punti Perché Si parla Di lunghi rettilinei Con l'effetto Sia DRS Ed Erse Che c'ha Sto gioco Credo che Si possa Sparigliare Anche un po' Le carte Con i risultati Finali Sarà un turno All'otto Speriamo che Speriamo che Ci giri bene Più che altro Perché Lì Di tecnica Di setup Messa appunto Usura C'è poco da lavorare Cioè La pista è dritta Quello che Prende la scia giusta All'ultimo giro Vince Secondo me Diciamo che Lo storico Degli ultimi Due tre anni Più o meno Ricalca Questo tipo Di Di situazione Jay Nobile arte Del paddino Anche su ACC Guarda Se fosse Il circuito Di ACC Per me Sarebbe spettacolato Non sono mai andato Così forte Come sono andato Su ACC L'altra volta Tra l'altro Bellissimo Un evento Veramente bellissimo E il 17 C'è Donington Quindi Prossimo appuntamento Quattro ore di Donington Ragazzi non mancate Per chi vuole C'è la quattro ore di Donington Il 17 Di febbraio Su Ferrari Credo Lui Se non sbaglio Credo che abbiamo deliberato La Ferrari Come macchina Sì Penso Penso di sì Per quanto invece Mi riguarda me E Monza I risultati Parlano chiaro Non sono mai andato Forte a Monza E l'anno scorso È stata la mia Peggior gara Del campionato E Una gara fondamentale Perché Mauro Aveva Ha fatto la gara Migliore In quella gara lì E ha tolto i punti a Luigi Che poi alla fine Sono stati fondamentali In una gara Veramente Brutta Che avevo fatto a Monza Quindi non mi aspetto nulla Onestamente Aspetto molto di soffrire Era importante vincere qua In Olanda Onestamente Perché mi sentivo in grado Di poterlo fare E Ce l'ho fatta Negli ultimi tre anni Ho fatto Primo Secondo Primo Quindi Sono contento per Olanda Per le prossime gare In Monza Io Credo che Dovrò fare Mezzo miracolo Vediamo un po' Se quest'anno Si ribalta un po' il trend E poi Dopo scopriamo È un campionato Veramente tirato Si perde punti Da una gara Si recupera da un'altra Però Tra tutti Il primo è Fabio Quindi l'obiettivo È cercare ancora Di recuperare su di lui Perché lui è davanti Però È una bellissima battaglia Io spero di portarla Fino alla fine Comunque ci sto provando In tutti i modi A difendere questo titolo Molto bene Grazie mille Allora direi che Siamo in conclusione Quindi grazie E buonanotte Jay Grazie a voi Grazie e buonanotte Luigi Buonanotte Buonanotte a tutti Grazie e buonanotte Drago E buonanotte Anche da parte mia Raffaele Lalli Per voi Rossi è tutto Un ringraziamento Come di consueto A tutte le forze organizzative Che ci hanno aiutato Nel corso della settimana Con i campionati fit E ci vediamo Sui vari social Il targato di Formula Talenteam E sul sito www.formuletalenteam.com Gli appuntamenti Con i campionati fit Sono già a venerdì Con la Premling Che inaugurerà La settimana Con i campionati All'autodromo nazionale Di Monza Grazie ancora A tutti E buonanotte All'autodromo nazionale